Buongiorno a tutti, a coloro che sono in presenza e anche a coloro che saranno collegati o si collegano adesso. Noi apriamo questa iniziativa per il secondo anno ancora in streaming e nelle condizioni che ci obbligano in momenti di crisi, della pandemia che si risolve e non si risolve. Sono lieta di essere ancora qui a rappresentare Mab Lombardia in questo momento, che è un po' come dire molto molto fragile come struttura, non è una struttura. Per chi non lo sa il Mab è un coordinamento fra le associazioni AIB, ICOM e ANAI dal 2012 che si propone di confrontare, far parlare insieme, mettere allo stesso tavolo i rappresentanti e comunque i professionisti di archivi, biblioteche e musei. Questo è avvenuto a vario titolo, è avvenuto a livello regionale perché ci sono dei comitati regionali. In Lombardia abbiamo avuto dei gruppi più o meno stabili o instabili, però siamo riusciti sempre a fare qualche iniziativa e comunque per noi le stelline rappresentano un riferimento, un'opportunità per essere di nuovo a questo tavolo come archivi, biblioteche e musei in un contesto tutto bibliotecario. L'anno scorso abbiamo parlato dell'agenda 30, spiegando che cosa fosse, c'era il nuovo libro della collega Rota, c'era Lanziker eccetera, gli atti sono disponibili online ancora e anche le relazioni se le chiedete anche a me le posso fornire anche singolarmente. Quindi riprendiamo questo fil rouge aperto l'anno scorso sullo specifico pensando a che cosa sta succedendo adesso che stiamo uscendo, si presume, si spera, si auspica da queste emergenze collegate, miste, confuse, che ci hanno veramente bloccato e impedito di proseguire una vita normale. Però abbiamo imparato tante cose, io personalmente sicuramente ho preso anche tante cose da fare tecnicamente e anche in ambito internazionale, visto che qui l'etichetta che ho è IFLA, quindi International Federation of Library Association, sono ancora nella preservation e conservation dell'IFLA, ho fatto anche la chair e abbiamo fatto il congresso online e abbiamo fatto anche dei seminari con Enzo Libri, cui parlerà poi Moriello, ce n'erà, ecco. E questo vuol dire che anche a livello internazionale il discorso biblioteca e il discorso resilienza è forte, le biblioteche hanno reagito, i musei hanno reagito, usando molto le tecnologie, gli archivi hanno reagito, tutti si danno molto da fare e nell'ambito di queste problematiche abbiamo visto nascere tante opportunità, non parliamo poi dei piani economici a cui si tende, si guarda, sia i finanziamenti europei, eccetera, che sono stati ampiamente tenuti in conto a vario titolo dalle varie situazioni e varie istituzioni e noi ci auguriamo che questa capacità di interazione che sta nascendo adesso si rafforzi e che il collegamento fra le strutture biblioteche e archivi e musei sia sempre più sensibile e visibile perché il clima ci coinvolge tutti, lo sappiamo, oggi ci sono le manifestazioni a Milano, il 24 è la giornata mondiale del clima e questi cambiamenti incidono e rovinano tutta la nostra vita sociale, economica e anche organizzativa in senso lato, manca il lavoro, ci sono tanti problemi, però abbiamo tante opportunità, dobbiamo sfruttarle e si conta sui giovani, io stessa dico vorrei davvero lasciare il testimone a molti giovani che sono pieni di energie e hanno tanta creatività. Comunque io non devo fare la relazione, adesso passo i saluti iniziali al nostro Pezzica che è il presidente della NAI Lombarda, Lombardia, che è archivista e mi fa i suoi saluti per questo seminario. Vi sentite, sì. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie Ornella per ogni anno impegnarsi nell'organizzare la giornata dell'incontro MAB, grazie a tutta l'organizzazione e noi siamo contenti come ANAI Lombardia di patrocinare giustamente ogni anno questa iniziativa che non è neanche l'unica, poi dopo magari faccio un avviso di un'altra iniziativa. Semplicemente voglio sottolineare come effettivamente il tema è importante, come ha detto Ornella, che riprende un discorso iniziato proprio l'anno scorso qui alle Stelline, ANAI, non soltanto Lombarda ma nazionale, è attenta a queste tematiche, tant'è vero che appunto domani ci sarà un evento anch'esso dedicato agli archivi nello specifico, dal titolo Archivi leggeri, anzi leggerissimi, che riprende un refrain conosciuto a Sanremo qualche tempo fa ma che funziona benissimo, ha avuto grande successo questo titolo, che parlerà appunto di transizione, leggo qui ecologica ma è transizione digitale, siamo in un periodo di transizione, i 18 mesi più o meno passati della pandemia possono darci già un'idea di un bilancio ma non è certamente finita qua e quindi oggi credo che si parlerà anche soprattutto di questo, alla luce di un concetto che immagino si sentirà anche nelle relazioni oggi e che andrà preso in considerazione proprio per il futuro, soprattutto quando ci si confronta con il digitale, l'obsolescenza programmata e il rifiuto tecnologico, rifiuto nel senso dei rifiuti, proprio la monnezza diciamo così tecnologica con cui ci si deve confrontare se si vuole sempre più affrontare queste tematiche. Basta, non aggiungo altro, grazie e buon lavoro a tutti e ripasso la parola a Dornella. Grazie dei tuoi gentili e graditi saluti, non vedo purtroppo Scarioni che viene a fare i saluti dell'AIB, so che è impegnato in un'altra sala, purtroppo io non posso attendere e quindi direi ai colleghi di mettere in onda il terzo saluto che è di Manoli che è una consigliera ICOM del direttivo, anch'io faccio parte del direttivo ICOM ma come proboviro, io sono proboviro dell'ICOM. Ecco, e lei ci porterà i saluti a nome dell'ICOM Lombardia, visto che lei lavora al Pol di Pezzoli ma non ha potuto questa mattina raggiungerci, vediamo il suo video. Grazie. Buongiorno, le attività dei musei sono riprese in maniera anche molto attiva e frenetica e per questa ragione sono impossibilitata essere con voi oggi. Però sono felice di questa opportunità di porgere il saluto del Presidente di ICOM Italia, dell'Emaresca, che sostiene sempre le iniziative di MAB e che sostiene anche molto le iniziative legate al tema della sostenibilità. A questo proposito ho il piacere di comunicarvi che ICOM Italia è partner di un progetto promosso dal Museo di Trento che si chiama Musei Integrati e che ha avuto inizio un anno fa e che terminerà appunto il prossimo anno e che ha lo scopo di individuare le buone pratiche che i musei possono adottare per supportare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Speriamo nella vostra prossima riunione di potervi raccontare gli esiti di questo studio. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro e buona giornata. Io ringrazio indirettamente Manoli come ICOM che rappresenta l'ICOM direttivo nazionale. Io sono rappresentante ICOM regionale per MAB quindi era diciamo logico che mi rivolgesse a livello nazionale per un saluto. Adesso passiamo la parola direttamente al primo relatore da programma che come avete visto è Rossana Moriello la quale è di casa alle stelline da anni e per me è una collega IB di lungo corso e adesso anche una collega di medio corso anche per IFLA in cui ci siamo trovati non dico allo stesso tavolo ma molto vicini e lei ci dirà perché. Lei è in una nuova sezione che è stata creata adesso, è in Sulib che si occupa del clima e di tanti aspetti di cui dirà e io sono nella preservation e conservation come standing committee e insieme faremo tante cose. Questo è un tipo, un primo approccio che facciamo insieme in Italia anche perché lo devo dire l'italiano non è una lingua diffusa nell'ambito dell'IFLA, ce ne sono otto ma l'italiano non c'è quindi tutto quello che si fa deve essere in inglese e abbiamo anche fatto come dicevo prima il congresso quest'anno tutto online e faremo presto delle iniziative insieme che riguardano queste tematiche. Moriello a te la parola, grazie. Grazie, sicuramente. Io siccome seguo le slide mi alzo. Sì, tanto da casa guardano le slide, non c'è problema. Sì, presenterò brevemente le attività che abbiamo avviato con lo standing committee IFLA Environment, Sustainability and Libraries e con l'Associazione Italiana Biblioteche e poi concludo con un punto secondo me essenziale rispetto al tema del workshop di oggi. Come sappiamo la tematica dello sviluppo sostenibile non è un tema nuovo, è un percorso che è iniziato negli anni 70 che ha visto diverse tappe di cui l'agenda 2030 è uno importante, è una delle tappe e rispetto a questo percorso l'IFLA, quindi la Federazione Internazionale delle Associazioni Bibliotecarie ha partecipato attivamente a tutto il percorso, ha collaborato con l'ONU nella stesura dell'agenda 2030 in particolare per le tematiche legate alle biblioteche, alla conoscenza e sottolineando un aspetto centrale sul quale poi ritornerò anche che è l'accesso, l'importanza dell'accesso all'informazione e alla conoscenza e l'ha fatto cominciando da un documento molto importante emanato nel 2014 firmato da 600 associazioni bibliotecarie e culturali che è la dichiarazione di Lione, nella quale l'IFLA sottolineava tra le varie cose l'importanza dell'accesso all'informazione e alla conoscenza in tutti i formati, quindi in formati tradizionali e nei formati digitali. L'accesso alla conoscenza in particolare legato allo sviluppo sostenibile fa parte del piano strategico dell'IFLA 2019-2024 e è stato dichiarato dalla presidente eletta che è entrata in carica ad agosto di quest'anno come tema presidenziale, quindi le biblioteche che costruiscono un futuro sostenibile, quindi è sicuramente al centro dell'attività dell'IFLA che è un'organizzazione globale che ha rappresentanti in tutto il mondo. Tra le attività dell'IFLA vi è stata la creazione di un gruppo di studio che nel agosto 2021 è diventato uno standing committee, quindi una sezione permanente a testimonianza dell'importanza della tematica rispetto alla missione dell'associazione, quindi la tematica è diventata un tema chiave permanente. La sezione ENSULIB, quindi Environment, Sustainability and Libraries, di cui faccio parte, ha cominciato a lavorare in agosto, di quest'anno siamo partiti con tantissime iniziative e tantissime idee. Stiamo lavorando sicuramente all'organizzazione delle sessioni del World Library and Information Congress che si terrà a Dublino a fine luglio e di un satellite meeting che si terrà a Cork. Stiamo programmando l'IFLA Green Library Award del quale parlerò tra un momento. stiamo lavorando a un sito molto importante che è l'International Green Library Bibliography che è una bibliografia internazionale sulle tematiche dello sviluppo sostenibile che trovate poi a partire dalla pagina web della sezione che ho messo poi in una slide alla fine. Stiamo lavorando su una checklist per la Green Library delle linee guida e predisponendo materiale informativo di vario genere. L'IFLA Green Library Award è un'iniziativa piuttosto importante che è arrivata alla sesta edizione e è un concorso diviso in due sezioni Green Library e Green Library Project, intendendo il concetto di Green Library chiaramente non soltanto dal punto di vista architettonico ma è un concetto che abbraccia tutti i temi della sostenibilità e ogni anno, nei primi mesi dell'anno, viene bandito il concorso e quindi sarà nei primi mesi del 2022. invito fin da subito le biblioteche e bibliotecari italiani a pensare, a partecipare a questa iniziativa che prevede tra l'altro anche un premio in denaro per i progetti vincitori oltre a una visibilità internazionale e che appunto i vincitori vengono poi annunciati durante il prossimo World Library Information Congress. I criteri di questo premio riguardano l'applicabilità rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'azione di Ensulib, il contributo della biblioteca agli obiettivi di sviluppo sostenibile e la qualità della presentazione non soltanto alla presentazione a Ensulib ma proprio di come il progetto viene presentato al pubblico viene fatto conoscere agli utenti della biblioteca e al pubblico in generale. E la rilevanza chiaramente rispetto agli obiettivi e ai valori dell'IFRA quindi vi invito a seguirlo perché insomma è un'iniziativa credo interessante. Questi sono i progetti velocemente, poi trovate ulteriori informazioni sul sito appunto di Ensulib sono i progetti che hanno vinto il Green Library Award 2021 la Edmonton Public Library in Canada che ha lavorato molto sulla riqualificazione energetica degli spazi e sull'uso di materiali sostenibili e poi la biblioteca di Helsinki che ha lavorato tantissimo per rendere la mission della biblioteca in generale coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Si sono concentrati in particolare su 11 SDG e hanno lavorato tantissimo. Come associazione italiana biblioteche anche stiamo lavorando sulle tematiche dello sviluppo sostenibile anche in questo caso era stato creato un gruppo di studio che nel 2020 è stato trasformato in osservatorio permanente quindi anche in questo caso si è rilevata la necessità di fare entrare le tematiche dello sviluppo sostenibile e delle biblioteche nella missione dell'associazione in maniera permanente. L'osservatorio Biblioteche e Sviluppo Sostenibile OBIS partecipa ai lavori del gruppo trasversale Cultura per lo Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che appunto mette insieme istituzioni culturali di diverso genere, biblioteche, archivi, musei, associazioni proprio per cercare di trovare degli spazi comuni di lavoro. Partecipa tramite i suoi rappresentanti all'ELSIA che è un gruppo di esperti che sta lavorando sulle tematiche di sviluppo sostenibile in particolare legate anche alla valutazione dei progetti di sviluppo sostenibile e alle possibilità di finanziamento anche sui fondi strutturali di finanziamento europeo rispetto a questi progetti. È un gruppo che è all'interno di Eblida che è un'associazione europea e poi l'AIB partecipa anche all'IFRA, appunto a Insulib. Quindi la tematica dello sviluppo sostenibile è davvero al centro ormai dell'agenda di tutte le associazioni bibliotecarie. Anche OBIS, quindi l'Osservatorio Biblioteche e Sviluppo Sostenibile dell'AIB lavora per sensibilizzare le biblioteche sulle tematiche relative all'agenda 2030 e sulle potenzialità di azione in raccordo con le istituzioni internazionali e le istituzioni culturali in Italia organizza convegni e momenti formativi, per esempio stiamo organizzando dei virtual labs dei momenti formativi molto specifici per formare i bibliotecari a elaborare dei progetti dei progetti che possano poi chiedere dei finanziamenti europei o nazionali nelle varie iniziative, i bandi ormai sono tantissimi rispetto allo sviluppo sostenibile i bandi che possono essere finanziati. Poi traduciamo materiale chiaramente informativo, in particolare di IFLA e produciamo anche materiale informativo nostro. Tra le traduzioni che abbiamo elaborato di recente vi è la traduzione di questa infografica molto efficace e molto importante dell'IFLA che spiega perché l'accesso è una parola chiave fondamentale l'accesso all'informazione e alla conoscenza è fondamentale in tutti gli SDG e in realtà l'accesso è un concetto fondamentale non solo rispetto all'informazione e alla conoscenza se scorrete i target dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile compare tantissime volte si parla di accesso, io non ho preso solo qualcuno a caso, il target 2.1 parla di accesso all'alimentazione sicura si parla di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e ai farmaci accesso paritario per uomini e donne a un'istruzione di qualità e a costi sostenibili accesso all'acqua, ai servizi energetici, ai sistemi di trasporto quindi è veramente una parola chiave e accesso all'informazione e alla conoscenza è a sua volta fondamentale per raggiungere tutti e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile anche perché l'accesso è la parola che sta alla base del concetto stesso di sostenibilità il concetto di sostenibilità ha diverse definizioni ma tutte riconducono alla necessità che l'azione sociale, civile, economica e aggiungo culturale globale riesca a soddisfare i bisogni di oggi senza compromettere i bisogni delle generazioni future e su questo l'accesso alle risorse in generale e nel nostro caso in particolare a risorse informative è fondamentale. Come ci dice la Digital Preservation Coalition il concetto di conservazione del digitale ci dice che significa assicurare l'accesso continuo al materiale digitale. Chiaramente il digitale sta ponendo come è già stato anticipato una serie di problematiche in più le abbiamo visto emergere chiaramente durante la pandemia e richiede una riflessione ulteriore è un tema centrale rispetto a questa riflessione con il quale vado a chiudere ce lo evidenziano le linee guida UNESCO-PERSIST che sono state appena pubblicate, la seconda edizione è stata pubblicata da pochissimo che ci dice quanto la selezione sia fondamentale cioè la riflessione su che cosa conservare per le generazioni future quindi rendere sostenibile per le generazioni future siccome non è possibile conservare tutto in particolare con il digitale è necessario selezionare concure e su questo bibliotecari, archivisti, curatori hanno un ruolo fondamentale è necessario un approccio olistico, ci dicono, le linee guida trasversali ai formati quindi un approccio che guardi all'insieme digitale e analogico e ai diversi mezzi tramite i quali l'informazione viene diffusa poiché il cartaceo e il digitale coesistono in quella che le linee guida definiscono una coda lunga ibrida quindi richiamando il concetto di long tail il criterio della sostenibilità è fondamentale rispetto al tema della conservazione in particolare della conservazione digitale inteso come la capacità delle istituzioni di conservare per l'accesso lungo termine cioè occorre anche una valutazione della capacità dell'istituzione di conservare quindi è un tema di riflessione a mio avviso centrale col quale chiudo lasciandovi appunto i due link all'Osservatorio Biblioteca e Sviluppo Sostenibile e alla sezione IFRA nei quali trovate ulteriore materiale grazie grazie Rossana adesso devo correggere il tiro mi sono scusata ma vestiti tutti di nero compresa me la mascherina nera, gli occhiali neri, i capelli neri non ho visto che nel pubblico non sia messa in prima fila la nostra attesa rappresentante e che deve portare un salutino della soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia la dottoressa Annalisa Rossi ci ha promesso questo saluto attraverso la sua funzionaria più esperta e brava che si chiama Vincenza Petrilli la quale appunto vi porterà il saluto a nome del Ministero della Cultura ecco, grazie Vincenza ci mancherebbe la prossima volta per averlo vestita colorato ho capito questo buongiorno a tutti la soprintendenza apprezza particolarmente questa iniziativa ho la voce tonante, non vorrei rintronare tutti questa iniziativa che è importante che è concentrata sulla resilienza sulla ripresa e quindi sulle attività di tutela che la soprintendenza deve governare e sono attività che non si sono mai fermate lo sappiamo tutti noi seduti qui lo sanno quelli che ci stanno seguendo a distanza la tutela anzi ha avuto delle declinazioni importanti e nuove ho potuto assistere e partecipare a distanza a progetti di revisione degli strumenti e sappiamo quanto sono necessari gli strumenti come i cataloghi, gli inventari a progetti che sono stati pensati proprio durante la pandemia per poter essere applicati e resi concreti successivamente come progetti di restauro progetti di interventi su depositi, su locali cioè su quella tutela indiretta che è importantissima per noi quindi vi dico che a dispetto delle difficoltà che ci possono essere che sono legate essenzialmente al fatto che siamo pochi questo lavoro, questo lavorare per la tutela è un privilegio mi sento privilegiata io si sentono privilegiati i miei colleghi sappiamo che è necessario perché è necessario tutelare affinché ci sia la ripresa affinché ci sia la valorizzazione la condivisione e in ultima analisi affinché ci sia una crescita quindi io ringrazio per questo invito e continuo ad ascoltare con grande interesse gli interventi di ogni relatore e buon lavoro a tutti noi buongiorno grazie Vincenza e anche ringrazio appunto Annalisa Rossi che non ha potuto venire di persona credo che ci sia domani non ho sentito perché è sempre molto impegnata non avendo solo la Lombardia ma avendo anche la Puglia come regione da gestire per la parte di tutela e adesso passiamo al secondo relatore chiedo al professor Porteri di accomodarsi mettiamo anche il professor Porteri è il presidente della fondazione Ugo D'Acomo oltre che emerito professore dell'Università degli Studi di Brescia economista e persona che si occupa tuttora di economia di management e ce lo dirà eventualmente lui stesso e che ho avuto il piacere di incontrare oggi per la prima volta ecco devo dire una cosa sulla fondazione Ugo D'Acomo io sono molto affezionata alla fondazione Ugo D'Acomo ci ho fatto il consigliere per quasi vent'anni quando lavorando in regione Lombardia nell'ambito della tutela e comunque nell'ambito delle biblioteche degli istituti culturali rappresentavo appunto in quell'ente la parte documentaria e bibliografica dal punto di vista della tutela e quindi ho avuto modo di vedere tutti gli angoli posti più belli svilupparsi cambiarsi in quegli anni e adesso appunto io sono ormai lontana da nove anni ormai e credo che i cambiamenti siano notevoli a giudicare poi da quello che appunto abbiamo discusso e che il professor ci presenterà vedrete che è una splendida situazione da valorizzare e far conoscere soprattutto anche a coloro che sono lontani quindi noi siamo in screening speriamo che molti possano conoscere da queste immagini e abbiano voglia di venire a vedere deviso che cos'è questa meraviglia dal mio punto di vista al professore passo la parola deve schiacciare il bottoncino bene io ringrazio gli organizzatori ringrazio in particolare la dottoressa Ornella Foglieni per questo invito di partecipazione perché mi dà la possibilità di presentarvi la fondazione Ugo da Como di Lonato del Garda ma anche di illustrarvi come a livello micro essa stia cercando di declinare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU 2030 quindi una breve presentazione della fondazione poi vi dirò nel tempo molto limitato che ha a disposizione quali sono le azioni che stiamo portando avanti allora inizitutto breve inquadramento la fondazione Ugo da Como è un ente giuridico privato è stato istituito con regio decreto nel 1942 le finalità statutarie consistono nella tutela promozione valorizzazione dei beni di interesse architettonico artistico storico ma anche paesaggistico che costituiscono il patrimonio che gli è stato affidato dal senatore bresciano Ugo da Como che muore nel 1941 è una missione una mission che perseguiamo ovviamente senza scopo di lucro e con finalità pubbliche un patrimonio che si articola in una casa museo del Podestà con le sue collezioni di dipinti ceramiche vetri mobile cuoi nella biblioteca e nell'archivio nella rocca visconteo veneta nei giardini della casa nel parco in un'ampia area verde negli edifici che fanno parte del borgo medievale di Lonato cosiddetto della cittadella patrimonio che è venuto arricchendosi con donazioni in particolare dell'archivio e della biblioteca Antonio e Giovanni Tagliaferri e recentemente della Gipsoteca Lombardi ma anche con depositi quali sono la biblioteca Luigi Nocivelli e il museo civico ornitologico vi do un flash abbastanza rapido sulle tessere principali di questo patrimonio la rocca la rocca Visconteo Veneta risale certamente attorno all'anno 1000 l'architettura che attualmente è visibile e databile attorno al secolo XIV XV una rocca sulla quale hanno dominato i Visconti gli Scaligeri i Gonzaga e naturalmente la Serenissima una rocca che con le vittorie napoleoniche la fine della Repubblica Veneta perde quella importanza strategica che aveva e entra nel demanio austriaco che nel 1827 addirittura la cede a privati nel 1912 viene dichiarata monumento nazionale nel 1920 viene acquistata dal senatore da Como e entra a far parte del patrimonio che attualmente abbiamo la responsabilità di gestire la parte alta di questa rocca si erge la casa del capitano che ospita un museo civico ornitologico che è intitolato a Gustavo Adolfo Carlotta la rocca è circondata da un'area verde molto ampia di circa 8 ettari casa del Podestà il primo intervento che viene effettuato sotto la direzione di Antonio Tagliaferri tra il 1907 e il 1909 riguarda proprio questa dimora è una casa quattrocentesca già dimora dei Podestà della Serenissima la quale in quegli anni viene completamente restaurata arredata dotata di dipinti di sculture di quanto oggi è possibile visitare una casa museo è un esempio tipico di casa dell'alta borghesia tra 800 e 900 penso di poter dire tra le meglio conservate di Lombardia in questa in oltre 20 stanze arredate trovano collocazione migliaia di oggetti che sono stati raccolti da Ugo da Como proprio con questo specifico intendimento farne un luogo esclusivo di cultura sempre in quegli anni grazie a partire in particolare dal 1906 Ugo da Como acquista e intende dar vita a una ripresa intende ricostituire e ridare evidenza all'antica cittadella medievale del comune di Lonato l'altro tessere importante del patrimonio è la biblioteca l'edificio viene realizzato negli anni 20 con la direzione dei lavori che viene affidata all'ingegnere Annaldo Trebeschi e una biblioteca che è particolarmente ricca custodisce più di 50.000 volumi databili a partire dal XII secolo incunabili 400 incunabili soprattutto bresciani più di 500 manoscritti migliaia di cinquecentine e come vi dicevo negli anni più recenti il patrimonio librario si è arricchito con la donazione dell'archivio di Antonio Giovanni Italiaferi che è una fonte ricchissima per la storia dell'architettura e dell'urbanistica di Brescia e della provincia e con il deposito di una raccolta molto preziosa la raccolta Nocivelli che comprende 184 opere monografiche per un totale di 400 volumi specificamente riguardanti l'architettura l'archeologia e l'antiquario certo la gestione di un patrimonio come questo non è semplicissimo ci gioviamo di una struttura molto flessibile molto agile la fondazione è gestita da un consiglio di amministrazione costituito da sette membri si giova di cinque dipendenti tre dei quali a tempo pieno ma va detto conta soprattutto per quanto riguarda l'apertura all'esterno l'effettuazione di visite di singoli di comitive di scolaresche di eventi di manifestazioni conta sul volontariato che viene fornito alla fondazione da una associazione amici della fondazione obiettivi in termini di sviluppo sostenibile obiettivo istruzione di qualità allora fino a prima della pandemia circa 6.000 studenti visitavano la fondazione e la frequentavano ogni anno abbiamo cercato di rendere più attrattiva la fondazione in particolare nei riguardi dei giovani scolari e studenti affiancando ai percorsi didattici tradizionali e ai laboratori molto molto tradizionali abbiamo affiancato visite che sono supportate da realtà aumentata e abbiamo realizzato una sala immersiva per quanto riguarda le visite sono supportate da strumenti audio video consentono al visitatore veramente di immergersi completamente nella realtà dei luoghi di scoprire di vivere la storia della loro vita quotidiana di un tempo che viene narrata dalla voce di personaggi di eccezione che ovviamente sono interpretati da attori ad esempio a narrare la storia della rocca abbiamo Isabella d'Este la casa del podestà viene raccontata da Ugo da Como il museo ornitologico e vede la presentazione dei suoi esemplari più particolari in azione nel loro habitat naturale abbiamo realizzato poi una sala immersiva nella quale il visitatore è veramente circondato da immagini di grande effetto di grande respiro che presentano il territorio con i borghi i castelli le fortezze i palazzi gli spazi verdi e con le eccellenze del medesimo in termini di obiettivo 11 città comunità e comunità sostenibili ci siamo mossi con il precipuo obiettivo di proteggere salvaguardare ma anche valorizzare il patrimonio culturale tra il 20 2020 i primi mesi di quest'anno abbiamo restaurato la galleria della casa del podestà un intervento che ha portato all'attribuzione certa al più originale pittore della scuola bresciana del 500 girolamo romanino di tre monumentali strappi da fresco che raffigurano capitani di ventura un restauro che ha portato alla lettura araldica degli oltre 70 stemmi delle più importanti casate bresciane che hanno dato un podestà allo nato tra il 15 XVI secolo e la collocazione poi di tutti gli arredi presenti nella galleria secondo gli inventari topografici che furono redati nel 1944 sempre in logica di protezione e salvaguardia del patrimonio culturale devo citare due convenzioni in essere una con l'università degli studi di Brescia e l'altra con l'università cattolica obiettivo studio dello stadio di conservazione del circuito murario della Rocca e degli edifici del borgo monumentale della cittadella approfondimento e studio della genesi della biblioteca del senatore Ugo Dacomo e dei fondi archivistico-librali di architettura della fondazione sempre in questa logica proprio in questo periodo così difficile abbiamo voluto comunque dar vita a un primo intervento sulle casette della cittadella cioè di questo borgo medievale e vogliamo sia una prima tessera di un mosaico che vorremmo completare in futuro per la realizzazione di un albergo diffuso abbiamo dilupato studio a riguardo nel 2014 e 2015 e il disegno è quello di poter accogliere nel centro storico del comune di Lonato i turisti secondo queste modalità particolari previste da questa forma di ospitalità e da ultimo siamo proprio devo dire in attesa del parere della nostra sovrintendenza per un intervento significativo che intendiamo realizzare in prossimità della Casa del Podestà e su un viale di Tigli che dà accesso alla ROC certamente c'è anche un problema di consumo e di produzione responsabile e per questo abbiamo in fase avanzata la realizzazione di una importante cabina elettrica qui ci consentirà finalmente di sostituirci all'attuale sistema che ahimè visto che parliamo di obiettivi di sviluppo sostenibile dobbiamo ancora far funzionare con generatori che sono alimentati da motori diesel figuratevi quindi questo è un progetto che abbiamo già in atto ce n'è uno per il futuro che riguarda una illuminazione ecosostenibile ma a forte impatto efficacia di valorizzazione delle architetture della ROC con uno studio che è in corso con A2A vi dicevo di un'area verde importante questa vorremmo finalizzarla alla realizzazione di un bioparco un format che consente sia la valorizzazione in logica di svago e di offerta di tempo libero ma anche di conservazione di un comparto territoriale immaginiamo di realizzare una fattoria didattica un agrivivaio un parco ornamentale è un bosco paesaggistico un progetto che spero di realizzare nei prossimi anni in collaborazione con grandi giardini italiani che come sapete è un network importante che riunisce i parchi e i giardini più belli d'Italia l'ultimo goal l'ultimo obiettivo di 20-30 è la partnership certamente in una realtà come la nostra le partnership sono fondamentali partnership pubblico privata l'abbiamo realizzata con ovviamente con il comune di Lonato rappresentiamo una gemma un piccolo tesoro di valorizzazione del basso garda abbiamo come vi dicevo peraltro anche una convenzione con l'università degli studi di Brescia e con l'amministrazione provinciale i progetti della fondazione che cedono alla gestione corrente il nostro obiettivo è chiaro la gestione corrente deve essere in equilibrio ma se andiamo oltre la gestione corrente pensiamo a investimenti con le risorse singole della fondazione non ci arriviamo e quindi partecipazione a bandi ovviamente questi sono temi che conoscete tutti per noi importanti i bandi Caliplo Gall Gard Colli Morenici Regione Lombardia ovviamente Ministero ma devo anche dire abbiamo fatto un lavoro che sta dando i propri frutti credo di poter dire che stiamo contando in modo molto molto significativo sul mecenatismo privato che ci viene da banche e da imprese del territorio vi ringrazio professore lei è stato bravissimo e ci ha presentato uno spettacolo di situazione che merita di essere visitata da chi non la conosce e parlarne perché le prospettive sono ampie come vedete la gestione di un simile complesso è una cosa grandiosa e professore è stato bravissimo a presentarci tutti gli aspetti e le opportunità e le cose che stanno cercando di sviluppare io faccio tanti auguri perché questo possa realizzarsi grazie professore colgiamo l'occasione per sfruttare questi minuti che abbiamo guadagnato non avendo un saluto dell'IB e quindi invito le persone che devono parlare adesso che sono due se non sbaglio il dottor Rossetto è la terza persona viene anche l'altra collega c'è una collega no non deve parlare va bene il dottor Rossetto è il responsabile di un'altra situazione lombarda interessante conosciuta senz'altro però che può essere conosciuta adesso meglio da altre prospettive che ci racconterà che è la casa del Manzoni abitata dal Manzoni a Lecco la villa del Manzoni a Lecco che oggi è un grande museo di cui appunto avremo notizia adesso e che è molto legato a quel punto del territorio che è sul lago quindi con possibilità di avere anche delle prospettive in struttura di sviluppi diversi da ogni punto di vista io gli cedo la parola lui se vuole manovrare queste sue sì io ho una comunicazione che ha un incastro di un video in un powerpoint spero che ciò non crei problemi a questo punto mi alzo anch'io allora così guardo facciamo grazie buongiorno a tutti sono molto contento di avere già ascoltato alcuni concetti dei colleghi che mi hanno preceduto assai interessanti perché dal punto di vista del tema del nostro incontro di oggi quello appunto delle politiche culturali dei beni culturali del patrimonio per uno sviluppo dei programmi di transizione ecologica come il professore ha accennato per la fondazione Godacomo non abbiamo ancora affrontato il tema dal punto di vista del risparmio energetico dei consumi energetici quanto direi dal punto di vista di ciò che chi l'ha preceduto ha toccato ovvero sia del rapporto tra la valorizzazione del patrimonio l'accessibilità del patrimonio culturale dell'informazione come un diritto fondamentale un valore che mi ha fatto pensare una cosa molto bella cioè che di fatto noi abbiamo un gran privilegio perché il nostro lavoro è di per sé un lavoro che senza neanche grandi dubbi e scelte etiche da fare va nella direzione di una di una concezione ecologica della realtà dell'uso del territorio perché noi lavoriamo per la lunga dorata per la conservazione per la diciamo divulgazione alle generazioni future del nostro patrimonio quindi un concetto che va tutto al contrario di quello del consumo dello spreco dell'utilizzo così oggi sempre più veloce sempre più privo di qualsiasi conseguenza l'altro è il tema di cui parlava Lorenzo Pezzica cioè il problema di come si va a integrare questo tipo di transizione con l'utilizzo delle nuove tecnologie in particolare delle tecnologie digitali applicate ai beni culturali perché se da un lato è un è un ambito in cui noi non possiamo non con cui non possiamo non confrontarci e dobbiamo affrontare ad in sé alcuni pericoli ci pensavo per quello che riguarda appunto il lavoro sulle sulle reti e sulle dotazioni informatiche soprattutto nell'ambito che io conosco perché non sono bibliotecario sono museologo archivista che è quello archivistico e nell'altro invece di cui accennava il professore cioè del rapporto tra il virtuale l'utilizzo del virtuale del multimediale della realtà aumentata delle istituzioni immersive nell'ambito della conservazione invece delle collezioni tradizionali delle collezioni materiali degli allestimenti concreti materiali tradizionali perché alla fine se vogliamo sintetizzarla con quello che ha detto Lorenzo che per me è sempre stato un punto di riferimento anche teoretico come studioso il rischio è comunque di generare in ultima ragione una spazzatura e questo è un pericolo da cui noi dobbiamo insomma stare lontani invece quello di cui vorrei parlare io è un altro tema in più specifico cioè il rapporto tra quello che è il recupero lo sviluppo la riqualificazione di un percorso museale di un polo museale come stimolo per una rigenerazione urbana quindi per una concezione dell'utilizzo di aree di smesse di aree decadute magari al centro delle città come quella in cui Villa Mazzoni è collocata vado avanti ecco Villa Mazzoni ovviamente è sempre stato un luogo letterario alla vostra sinistra vedete una piantina fatta realizzare da un agrimensore per Alessandro Mazzoni nonno di Alessandro nella prima metà del Settecento quindi con un grande sedivo una grande proprietà agricola coltivata a gelsi vitati accanto a un parco una villa nobiliare negli anni nel 1818 Mazzoni vendette tutti i beni in territorio di Lecco Alessandro Scola grande imprenditore serico mercante di bozzoli di Vercurago e comproprietario di molti filandi filatoi nella Bergamasca la famiglia Scola ci abitò e subito lo valorizzò come un luogo letterario e nello stesso tempo in una fase non ben chiara perché nell'archivio che io ho studiato sono rimaste le lacune gli Scola si spostarono direi verso la fine ottocento a Milano divenne una villa di campagna un po' alla volta le aree appunto ambiti di cui purtroppo documentazione archivistica non è rimasta vennero cedute alle grandi acciaierie che si realizzarono proprio nel centro vicino al centro della città per quella che venne definita la Manchester d'Italia cioè una città fabbrica in cui rioni abitazioni opifice industrie piccole grandi artigianali fino alle grandi acciaierie consortili realizzate insomma tra la fine ottocento o grandi aziende come la Badoni o il Caleotto vennero costruite all'interno stesso della città e purtroppo la stessa villa venne diciamo probabilmente per necessità anche di Scola che da un lato vennero spropriati per la costruzione della ferrovia delle parti di terreno che avevano nella parte alta della piantina e dall'altra parte per scelte di vendita di terreni alle acceierie che si stavano erigendo il luogo venne cominciò a conoscere già lì quella prima diciamo il primo vulnus vulnus che aumentò poi alla fine degli anni 60 primi anni 70 quando venne ceduto al comune di Lecco e si realizzò una casa museo che però per praticamente 30 anni non ebbe nessun intervento di soprattutto manutenzione ordinaria di messa a norme degli impianti elettrici di riscaldamento e di conservazione microclimatica fino sostanzialmente al 2017 quando grazie a una serie di finanziamenti in parte legati a Expo e in parte del Cariplo abbiamo proceduto con un nuovo progetto museologico e museografico a un riallestimento totale del Museo Manzoniano che occupa il piano terreno della villa con alcune pertinenze le cantine le scuderie le corte nobile la corte rustica e speriamo poi andando avanti e ve lo dirò dopo di fare altro vedete sostanzialmente questo è l'aspetto che il museo aveva prima e quello è quello è l'attuale cioè abbiamo proceduto quindi ai restauri per ora solo interni perché i fondi non hanno permesso di aggredire le strutture portanti della villa le facciate il parco stesso che devono ancora essere recuperati quindi gli ambienti esterni adibiti a museo e poi tutto il materiale le collezioni in un'idea di cercare di compenetrare sostanzialmente le due identità del museo e allora quando ho dovuto redicere io la parte museologica del progetto mi sono posto questo problema se devo fare una casa museo ancora un museo letterario alla fine ho scelto d'accordo con gli altri componenti del team di progetto di fare un allestimento che tenesse insieme se possibile entrambe le ambivalenze cioè il museo la casa museo che testimonia la vita nelle tracce lasciate da chi l'abitate quindi dai manzoni prima dalla grande famiglia del nobiliare del territorio e poi da una grande famiglia industriale gli scola nell'ottocento nei primi del novecento e dall'altro un museo letterario tenendo conto che il problema principale che a meno a me è sorto spontaneo è che questi musei letterari come musei musicali o di altro tipo non sono mai musei sulle opere di chi le ha create ma sostanzialmente sui musicisti sugli scrittori cioè sono musei un po' geografici un po' biografici ed è difficile perché nel caso del museo letterario l'oggetto del museo sarebbe il testo cioè ciò di più di quanto più immateriale esista da comunicare da far fruire a un visitatore di un museo da questo punto di vista appunto si è operato poi credo che partirà a un certo punto il video si è operato allora direi qui per tenere insieme con tutto un lavoro anche di carattere luminotecnico oltre che di restauro è un percorso che in alcune sale si focalizza più sulla ricostruzione di ambienti come la sala grisaglie che era la sala delle feste fatta di decorare all'inizio dell'ottocento da Pietro Antonio Manzoni dal padre di Alessandro oppure appunto la sala da pranzo che vedete in alto che era una sala tipica di metà ottocento così come gli scola l'avevano utilizzata e abitata e invece il museo letterario nel senso del museo che si occupa delle opere di Alessandro Manzoni in particolare ovviamente nel caso di Lecco dei Promessi Sposi del suo capolavoro e di tutta l'iconografia e le illustrazioni del romanzo stesso come nel caso della sala che vedete in basso a destra il risultato al volo d'uccello può essere se volete vedere un attimino questo video un po' breve un po' breve Grazie a tutti. 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 Abbiamo inaugurato il restauro della cappella che non erano riusciti a finire e appunto una nuova postazione multimediale in una sala dedicata alla peste, al rapporto tra la peste e i promessi sposi. Adesso ripartiamo, speriamo soprattutto con il prossimo festival manzoniano che ci sarà a metà ottobre per far conoscere questo nuovo allestimento a un pubblico più ampio ed è la ragione principale della mia presenza qui. Ma speriamo che questa cosa dia il volano anche per un aspetto di rigenerazione urbana, per un processo di rigenerazione urbana che possiamo introdurre e sono quasi ovviamente la conclusione del mio intervento. se possiamo passare alla slide successiva. Ah no, è vero, scusate, dovevo essere io. Ecco, cioè Villa Manzoni, come dicevo, pur essendo vicino al centro di Lecco, quindi al borgo fortificato, Visconteo, Sforzesco, poi spagnolo, venne circondata di grandi aziende, di fabbriche, di strutture poi negli anni 60 residenziali, con l'immigrazione dal sud, di coloro che venivano a lavorare nelle fabbriche, negli uffici pubblici e quant'altro. Una delle aree più intensamente aggredite, come vi dicevo, grazie anche al fatto che ci passò la ferrovia, costruita alla fine degli anni 60 e dell'Ottocento, se non ricordo male, è quest'area della cosiddetta piccola velocità e dell'area del campus. Nell'area del campus del Politecnico c'era il grande ospedale di circolo creato negli anni 20, quindi sostanzialmente, finalmente, i lecchesi che potevano continuare ad andare all'ospedale maggiore di Milano, essendo contado di Milano e di Occesi, ebbero un loro ospedale di circolo, nel senso che tutti i comuni, più o meno attualmente parte della provincia di Lecco, lo cofinanziavano e lo facevano parte. Una grande area che, come allora si faceva, come il vecchio ospedale di Paia, era padiglioni separati, cioè ogni reparto era una casa, un edificio separato dall'altro, perché si riteneva che igienicamente fosse più consono, che non una grande struttura unica come adesso invece si fa, si realizza, e lasciò tante palazzine che poi, una volta spostato nell'ospedale, alla fine degli anni 90, creò una grande area dismessa nel centro della città, abbandonata, che è stata recuperata per il campus del Politecnico, dove ci sono dei corsi che il Politecnico a Milano non fa, come una doppia laurea in ingegneria e architettura, dei corsi, diciamo, per stranieri di vario tipo e quindi c'è finalmente un'apertura internazionale e un flusso che non va solo dall'area metropolitana al capoluogo milanese, ma viceversa, con degli scambi molto interessanti. All'interno di quest'area, quella palazzina in specie in alto, che è l'ex maternità, è stato oggetto di un recupero che viene inaugurato oggi, quindi più tardo, grazie a un grosso finanziamento e un grosso progetto anche qui con Cariplo, Regione Lombardia e tutta una serie di altri enti. All'interno di questo siamo riusciti a ottenere, essendo il Comune di Lecco comunque uno dei partner principali, cofinanziatore con 6 milioni di euro, di questo progetto, di creare un'area per un deposito archivistico che inizialmente è nata solo con lo scopo di salvaguardare il più grande archivio tecnico relativo alla storia industriale del territorio, l'archivio tecnico della fabbrica Badoni, della ditta Badoni. 120.000, circa 150.000, adesso abbiamo cominciato appunto il riordino e le prime operazioni, dopo il trasloco da 120.000 a 150.000 disegni tecniche, tecnici, migliaia di incartamenti, faldoni, lastre, album fotografici, progetti che hanno un'emblematicità notevole dall'elettrificazione delle ferrovie del Sud America al ponte sul Bosforo, è l'industria dell'epoca dell'architettura in ferro, della Torre Eiffel, dei gasometri, dei grandi edifici in ferro e la Badoni era leader in Italia per un certo periodo di questo tipo di attività. La cosa interessante è che, essendo l'archivio vincolato ovviamente, noi temevamo nel procedere poi al finanziamento e all'appalto delle operazioni per realizzare questo deposito all'inizio, si pensava archivistico, temevamo che neanche ci riuscissimo a fastare tutto l'archivio tecnico. Invece, devo dire, i nostri fornitori, i nostri progettisti, forse anche un po' noi, siamo stati bravi, abbiamo risparmiato non solo spazio ma anche soldi rispetto alle dotazioni finanziarie che avevamo, ragione per cui siamo riusciti a trasferire tutti i fondi che facevano parte della sezione separata d'archivio. Una premessa, devo darla, un inciso, per chi non lo sa, l'ECCO, pur essendo diventata capologo di provincia, non ha mai realizzato un archivio di Stato e credo che la nostra collega della soprintendenza ci potrà confermare, visto di tanti sopralluoghi che abbiamo avuto dalla direzione archivistica centrale, non si farà mai, ragione per cui i musei che storicamente hanno raccolto tutti gli archivi del territorio, quindi dagli ex ECA, sotto prefettura, agli archivi privati, agli archivi aziendali, agli archivi di architetti, sono diventate di fatto il polo, la struttura di riferimento non solo per la consultazione ma anche per l'individuazione e la salvaguardia degli archivi sul nostro territorio, in collaborazione ovviamente sempre stretta e sempre positiva con la soprintendenza archivistica della Lombardia. Ragione per cui siamo riusciti a collocare lì l'intero polo archivistico dei musei lecchesi e quindi in un'integrazione con la didattica e con il recupero di questo patrimonio che potrà continuare, creare un centro, non solo un depoito, ma un centro di studio con delle sale studio, con dei criteri di conservazione ottimali dal punto di vista energetico, microclimatico e quant'altro. A questo tipo di asse e di area che si collega poi a Villa Manzoni però manca un tassello, c'è l'asse centrale che divide quest'area dall'area di Villa Manzoni che è quella della cosiddetta piccola velocità. Ecco, vi mostro qualche immagine. La piccola velocità era un'area creata dalle ferrovie sostanzialmente per servire, vedete, le aziende che erano nelle vicinanze e non solo. Si costruirono delle deviazioni della linea ferroviaria, la Milano-Sondrio, all'interno della città per portare i carri merci fino alle aziende perché la produzione era specificamente metallurgica e quindi di carpenteria pesante o in particolare, molti lo sanno, l'ecora specializzata nella trafilatura, nel filo di ferro. Quindi c'era necessità di non dover trasportare fino alla ferrovia, fino alla stazione, questi grossi carichi, interi treni merci magari che venivano formati. Questa piccola velocità ovviamente è diventata un'area estremamente degradata e molto dismessa. Diciamo che alla vostra destra, sopra vedete Villa Manzoni, la vedete, la potete individuare forse, e sotto appunto l'attuale area del Politecnico del campus universitario. E finalmente adesso sarò oggetto di un grande progetto di riqualificazione per cui abbiamo partecipato come Comune di Lecom Bando Cariplo, il cui esito è ancora da conoscere, che vedete realizzerà un grande polo, diciamo, un grande hub culturale multifunzione, quindi da tutti un nuovo spazio per la biblioteca civica e per il sistema bibliotecario provinciale, con tutti i depositi appunto aggiornati e funzionali, ha degli spazi per ospitare start-up, iniziative collegate anche all'associazionismo culturale e sociale della città, spazi per laboratori anche creativi per i giovani, per manifestazioni culturali, per concerti, per conferenze, e da questo punto di vista pensiamo di trasferire anche in questo ambito la biblioteca specializzata dei musei civici, perché noi come sistema museale abbiamo sempre avuto una biblioteca specializzata, ovviamente legata ai settori delle nostre collezioni, essendo un museo multidisciplinare, perché oltre al manzoniano abbiamo la galleria d'arte, il museo archeologico, il museo storico, il museo di storia naturale, gli archivi appunto. Quindi si è costruita una biblioteca specializzata che noi utilizzavamo per una fruizione in situ, quindi solo consultazione e non prestito, perché la struttura che avevamo, il personale che avevamo non ci consentiva, e poi anche perché il tipo di collezioni sono particolari, di particolare pregio. Da questo punto di vista mi sentivo molto solidale col professore, perché gestire una casa museo con un patrimonio museale all'interno del quale c'è una biblioteca storica estremamente complesso, anche se molto interessante. Quindi pensiamo, e davvero mi avvio a finire, di trasferire poi in queste nuove stabili, nuove strutture che verranno realizzate, anche le collezioni librarie dei musei, in modo da integrarli con quelle della biblioteca civica e con dei opportuni servizi, che in alcuni casi saranno solo di consultazione specialistica, in altri anche di prestito e di valorizzazione, in altro modo renderli più fruibili, perché in questo momento lo sono in modo solo parziale. Da tutto questo credo che venga una rigenerazione urbana che avrà ricadute didattiche, perché abbiamo un Politecnico vicino e addirittura insieme a noi per il polo archivistico, e anche turistico della città, perché proprio quello che manca al centro della città è questo spazio verde che crei finalmente una cerniera tra il centro e i cosiddetti rioni, i rioni come Olate, Acquate, di Manzogna e Memoria, in cui si sono le vestigia degli incontri tra malintenzionati e parroci, come ben sapete. Per cui speriamo davvero che da questo nasca una propulsione veramente olistica e a 360 gradi per la città. Grazie. Grazie, è stato veramente illuminante per chi non conosce bene questa area e anche l'aspetto del verde, speriamo che ci si renda conto che appunto è un polmone che va valorizzato in più quello del parco, parco che noi ci siamo immaginati collegati alla vita del Manzoni come un momento di relax, di pensiero, di luogo di ispirazione, eccetera. Non ci hai detto niente, avevi fatto un accenno. Se magari ci dici un minuto solo... Dobbiamo accennare una cosa, avete ragione, perché in fin dei conti il più ecologista di tutti, Le Chiesi, acquisito perché è nato a Milano ma in realtà da una famiglia che ha le sue radici appunto per secoli nel territorio delle Chiesi, proprio Alessandro Manzoni, perché decidendo di iniziare il suo romanzo con questa visione a volo d'uccello come se avesse un drone sul paesaggio dell'area orientale, ha ricordato che noi vivevamo in un posto straordinario. Lui nella prima stesura del Fermulcia che poi appunto emenda perché non vuole essere, come sempre era lui, understatement, egocentrico, toglie questo riferimento dicendo che io se non vi avessi passato l'infanzia, la prima adolescenza, definirei uno dei posti più belli del mondo. Però aveva ragione, aveva capito che c'era, diciamo, una bellezza paesaggistica e un patrimonio anche naturale eccezionale. di questo insegnamento le chiese avevano fatto cattivo uso, cioè praticamente la mentalità utilitaristica dà a industrie primarie, quindi la grossa differenza tra quello che può essere la storia dell'industria delle chiese rispetto a quella comasca, legata alla seta, quindi poi anche alla moda, al design, a un mercato internazionale, a un mercato di consumatori, di prodotto finito, mentre l'eco ha lavorato appunto più per le macchine industriali, le componenti industriali, la carpentieria, cioè per altre industrie, per un mercato secondario. Faceva pensare a tutti i lecchesi, perché il genius loci è davvero quello, cioè non è solo una storia economica e strutturale, sociale, ma è una mentalità, è un modo di pensare, cioè il modo di pensare è una città dove gli operai facevano 12 ore e poi andavano a casa a lavorare come padroncini per i propri stessi datori di lavoro, altre 8 ore, 6 ore, il famoso distretto culturale che un grande studioso Andrea Colli che ha fatto la sua tesi dottorato da noi quando era ancora giovane, io ancora ero un po' meno vecchio e adesso insegna storia economica alla Bocconi, definì proprio un modello, un modello socio-economico particolare e peculiare. Questo modello face pensare a tutti i lecchesi anche di cultura più o meno elevata, che tanto noi nel verde non lo si doveva conservare, che la città non era un bene che dovesse avere dei pregi architettonici su un luogo di bellezza, perché tanto avevamo un paesaggio così bello intorno e tanto l'avevamo già celebrato a livello letterario che si poteva costruire male, si poteva inquinare tanto, si poteva riempire magari anche le coste dell'Adea di tutti i rifiuti industriali, mettendoli magari sotto terra. Quindi c'è un recupero che anche di fatto nel recuperare questa area ambientale, perché si sviluppano carotaggi, si sviluppa sostanzialmente una bonifica anche dei terreni in cui questi processi verranno attuati, in cui questi interventi di rigenerazione urbana verranno attuati. Per cui direi che ha un valore culturale più ampio che Ornella, da grande esperta professionista, ha colto subito, meglio di me. Grazie davvero Mauro per questo grande escursus su tutto quello che state facendo e che farete. Vediamo fra qualche tempo appunto la realizzazione prossima come cambierà le cose, specie per l'aspetto appunto che hai detto adesso e l'integrazione di tutte queste parti che sono sempre state viste come cose separate e soprattutto per il discorso del green che si deve diffondere. Speriamo di vederli con il prossimo premio Green Library nell'ambito dell'ensulib a livello internazionale, perché c'era una biblioteca italiana, avevo visto il nome della Bocconi, io una volta, nelle biblioteche green, ma ne abbiamo tante che hanno un contesto intorno. Va bene, adesso passiamo all'intervento che a questo punto abbiamo guadagnato sempre due o tre minuti ciascuno in più, cinque minuti in più, la dottoressa Francesca Turati del Fondo Ambiente Italiano che ci parlerà un po' appunto della Villa Necchi Campiglio e comunque di che cosa va il FAI in questa logica che abbiamo detto pensando alla sostenibilità ambientale e quant'altro. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto sono molto contenta perché dopo mesi faccio un intervento senza guardare il computer davanti a delle persone, quindi già questo è un buon inizio. Come ha anticipato la dottoressa Foglieni, il focus dell'intervento sarà su Villa Necchi Campiglio e diciamo come a Villa Necchi abbiamo affrontato questo anno e mezzo, dicevamo, prima di crisi sanitaria, ma anche economica, ma anche ambientale. Io sono un architetto che lavora all'ufficio restare e conservazione del FAI e dall'apertura di Villa Necchi sono diciamo la responsabile tecnica, quindi vedo quotidianamente cosa succede in Villa. Prima di arrivare a Villa Necchi penso che tutti voi conoscete il FAI ma una brevissima introduzione è d'obbligo. Il FAI, Fondo per l'Amente Italiano, è una fondazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1975 da Giulia Maria Crespi che è stata per tanti anni la nostra Presidente e adesso è il Professor Andrea Carandini sul modello del National Trust inglese. L'obiettivo del FAI, la missione, è quella di tutelare, valorizzare il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico italiano e come lo fa? Curando e valorizzando un patrimonio di propri beni e grazie a questa cura l'intento è quello di promuovere nei suoi visitatori, nel pubblico, l'amore per la conoscenza, per la tutela, perché le persone stesse in prima persona si sentano coinvolte nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio. Ovviamente ispirandoci all'illuminato articolo 9 della nostra Costituzione. Questo è il nostro patrimonio, 68 beni, sparsi sul territorio, e tutto il territorio italiano, una grande concentrazione in Lombardia perché siamo nati qui a Milano e dei numeri che sono sempre in crescita. Aumenta il numero ma anche si amplia, si è ampliato tantissimo negli anni la nostra, il nostro, diciamo, la nostra idea di bene culturale da tutelare, da valorizzare. Quindi si passa dai primi beni che ci venivano lasciati tendenzialmente in donazioni, in eredità, che sono ville, castelli, monasteri, si passa dei tratti di costa a dei boschi, a dei pascoli, dei mulini. Una delle ultime donazioni che sono arrivate in Lomellina contemplano anche 36 ettari di risaie. Quindi un ampliamento di questo concetto di bene culturale immateriale, immateriale, sempre più inclusivo che ben rappresenta la ricchezza anche del patrimonio, del nostro patrimonio italiano. Gli ultimi numeri sul FAI che vi mostro, ovviamente gli ingenti investimenti che abbiamo fatto da 75 ad oggi e che ogni mese ci impegniamo a fare, soprattutto prima della pandemia purtroppo, e le persone che ci sono dietro a questo lavoro. Siamo 270 dipendenti negli uffici centrali di Milano, nel nostro ufficio siamo 21 architetti e ingegneri, il nostro responsabile è l'architetto Paola Candiani e poi insieme a noi lavorano, lavora questo esercito di 7 mila volontari che ci aiuta sia nei beni sia nei grandi eventi che hanno reso famoso il FAI come per esempio le giornate di primavera e di autunno le prossime saranno proprio il 16 e il 17 ottobre quindi ovviamente vi invito. Arriviamo a Villanecchi Villanecchi è sicuramente una delle proprietà dei beni di punta del FAI in centro a Milano ed è il primo bene del ventesimo secolo ad entrare nel patrimonio del FAI il primo bene di architettura moderna è stata costruita infatti tra il 32 e il 35 da Piero Portaluppi per la famiglia Necchi Campillo quella proprio delle macchine da cucire è veramente un unico urbano perché è una villa di delizia diciamo in centro a Milano dotata di oltre 4 mila metri quadri di giardino piscina campo da tennis quindi veramente un'eccezione purtroppo in questa sede che non riusciamo a approfondire tutta la parte ovviamente interessantissima dell'architettura di Portaluppi e anche dei restauri le Necchi Campillo lasciano la villa al FAI nel 2001 e dopo 5 anni di restauri ed oltre 7 milioni di euro di investimenti il FAI la riapre al pubblico nel 2008 anch'io farei partire adesso un video che sarebbe qua così è un po' promozionale diciamo che lo chiusiamo nei social ma per chi non c'è stato dà una bella idea di cosa vuol dire essere a Villa Necchi prego 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 ecco il video rende bene la casa museo Villa Necchi Campillo quindi anche la quantità le tipologie diverse di collezioni abbiamo diciamo negli anni la villa si arricchietta di importantissime collezioni prima su tutte la collezione Claudia Gianferrari di opere d'arte al piano rialzato ma anche tutti gli oggetti gli abiti gli oggetti di uso quotidiano che le signore Necchi ci hanno lasciato insieme alla loro villa quello che forse non si percepisce è la vita mondana che aveva Villa Necchi fino a un po' di tempo fa quindi un programma fittissimo di eventi di mostri di manifestazioni proprio come ai tempi la villa era stata pensata da portaluppi per le signorine Necchi come un dispositivo sociale per la loro vita sociale a Milano così anche adesso la villa era veramente un unicum per noi del FAI di appunto una serie di eventi e di attività quasi quotidiane fino al marzo del 2020 dove si è fermato tutta Italia ci siamo fermati ovviamente anche noi ed abbiamo chiuso questo abbiamo chiuso sapete benissimo più volte è stato proprio un periodo di 18 mesi di stop and go quasi poi la sera la domenica non si sapeva se si poteva riaprire dopo due giorni quello che abbiamo tentato di fare è ovviamente rimanere connessi con i nostri visitatori poi lo vedremo meglio questo è proprio un video di una delle chiusure c'era la nostra responsabile dei restauri la responsabile degli affari culturali del FAI della gestione loro tre che annunciavano in un video ok abbiamo chiuso quello che diciamo ecco possiamo ecco quello che è successo sinteticamente lo possiamo vedere qua tra il 2019 e il 2020 quindi una villa che aveva praticamente rimaneva aperta quasi 365 giorni all'anno e delle attività dei profitti molto alti si è ritrovato in una situazione del genere come appunto la maggior parte dei musei i giorni di apertura ridotti di un terzo i visitatori quindi pure manifestazioni di eventi culturali quasi a zero due invece trend positivi che possiamo sottolineare che abbiamo visto a Villanecchi ma anche in altri nostri beni riguardano i rinnovi delle iscrizioni che sono stata una percentuale molto alta quindi vuol dire che anche nel momento di difficoltà i nostri iscritti hanno rinnovato l'adesione hanno rinnovato la tessera FAI e poi simpatica questa cosa che la spesa media di bookshop si è alzata notevolmente forse c'era questa volta questa voglia appena si riapriva di fare finalmente qualche acquisto online e poi meno visitatori ma visitatori più seguiti più coccolati e che quindi hanno fatto più acquisti nei nostri bookshop cosa è successo appunto in questi 18 mesi allora di solito si pensa si fa e poi si racconta quello che si è fatto qui come dappertutto appunto la prima cosa era agire affrontare l'emergenza e mettere tutelare e mettere in sicurezza la casa e le collezioni una su tutte la collezione Guido Sforni che sono 21 disegni su carta che sono nella stanza del principe al primo piano della villa disegni di vediamo Modigliani Picasso Fontana che turnano ogni tre mesi in una cassettiera climatizzata che però in questo nel momento di chiusura dove non era possibile attivare degli impianti a ricircolo chiuso d'aria sono stati quindi non era più possibile garantire la conservazione per questi disegni sono stati tutti messi a dormire diciamo nella cassettiera climatizzata che abbiamo già in villa si è creata subito una task force fatta dal custode dal giardiniere dai nostri conservatori dai tecnici che armati di autocertificazione mascherina e guanti hanno più che mai monitorato la situazione conservativa della villa la villa era chiusa quindi non poteva contare sull'occhio dei nostri colleghi dei nostri volontari che subito notano se qualcosa non va e soprattutto Villa Necchi che è sempre aperta si è ritrovata chiusa quindi le condizioni microclimatiche interne potevano variavano e potevano anche innescare dei danni quindi si è anche creata proprio una tabella di marcia di apertura delle persiane a reazione non è stato lasciato diciamo nulla nulla al caso alcune opere però hanno subito appunto dei danneggiamenti per esempio gli amanti di Arturo Martini un gesto dipinto che già si trova si trova in una situazione un po' una collocazione non felice ma messa dalla collezionista Gianferrari sopra un calorifero di fianco alla porta d'ingresso nel momento in cui tutto si è fermato ha iniziato a degradarsi molto di più si tratta di piccole perdite di colore però durante appunto quest'anno e mezzo poi è stato mandato in restauro dicevo prima periodo di stop and go si apriva si chiudeva non si sapeva quanto rimaneva aperto e si era capito che quando si riapriva ormai non era più come prima non lo sarà forse mai più o per un po' di tempo quindi cosa succede che questa condizione di più buio più fresco abbiamo cercato di mantenerla anche durante le aperture questo per non continuare a variare i parametri climatici ma anche per raccontare l'impegno che ci stavamo mettendo nel risparmiare e soprattutto il pensiero che andava era per l'ambiente sì perché appunto la dottoressa Folini ha proprio citato i cinque giorni le cinque giornate green di Milano e Mario Draghi ha proprio detto ultimamente la situazione la crisi ambientale non è da meno rispetto alla crisi pandemica il FAI si era già impegnato da anni in campagne trasversali campagna salva l'acqua le grandi navi a Venezia ma abbiamo iniziato a ragionare su come potessero essere i beni stessi promotori dello sviluppo sostenibile molti di noi per esempio il nostro ufficio si è in parte fermato i cantieri erano chiusi quindi il tempo che noi abbiamo diciamo guadagnato abbiamo iniziato ad investirlo in gruppi di lavoro con anche l'ufficio ambiente sostenibilità del FAI per iniziare a immaginarci come appunto questi come i nostri beni che sono energivori possono essere in realtà promotori della sostenibilità è un work in progress che vi presento molto semplicemente abbiamo ritrovato gli SDGs che meglio potevano essere calati sulle attività dei nostri beni e li abbiamo divisi iniziare tematiche dell'energia all'economia circolare al patrimonio culturale per ognuna di queste aree ci siamo immaginati 45 azioni comportamenti che facciamo o che possiamo fare nei nostri beni abbiamo preso 10 beni campione tra cui Villanecchi e abbiamo analizzato ogni singolo comportamento ogni singola azione dando un valore ponderale cosa viene fuori un'immagine del genere ancora in progress il blu ci dà lo stato dell'arte di quanto effettivamente possiamo essere virtuosi da un punto di vista della sostenibilità e Villanecchi per esempio nell'energia ha un punteggio alto abbiamo pompe di calore usiamo il sistema geotermico siamo totalmente convertiti a led sistemi di gestione della luce però ci sono ampi margini per altre aree e allora sono lì che dobbiamo diciamo è lì che si deve lavorare è lì che devono essere inseriti nuovi interventi nei piani trennali è lì che bisogna magari attivare della raccolta fondi andare a cercare dei bandi specifici per arrivare alla linea rossa che è quello che ci immaginiamo possa essere la nostra situazione nel 2030 come gli obiettivi degli SDGs sono grandi cose ma anche comportamenti quotidiani piccoli che tutti i property manager nelle varie proprietà magari iniziavano a fare per propria iniziativa ma non c'è una sistematizzazione di questi comportamenti una condivisione tra tutti noi anche interna quindi quello che stiamo ulteriormente facendo è mettere giù un elenco semplice di tutti questi comportamenti che in qualche modo vogliamo anche trasferire fuori ai nostri visitatori comunicare sì perché l'ultimo pilastro un po' su cui ci siamo basati in quest'anno su quest'anno è stata la comunicazione prima di tutto il convegno del FAI se nel 2020 marzo 2020 chiudevamo Villanecchi marzo 2021 abbiamo inaugurato diciamo il primo convegno completamente online digitale del FAI una settimana di incontri il primo giorno il primo sabato di apertura del convegno il convegno era aperto a tutti a tutta Italia non era mai successo perché ovviamente in presenza non si sarebbe mai potuto fare qual era il tema? l'ambiente ripensare una nuova dimensione dell'ambiente fondo per l'ambiente italiano non ci possiamo esimere un ambiente che non è natura e basta ma in tutto il mondo ormai è un intreccio tra natura e storia e che quindi pone l'umanità tutti noi essendo che facciamo la storia proprio al centro dell'attività i primi promotori i primi sostenitori dell'ambiente la comunicazione poi si è declinata in tante forme più anche semplici tutta la parte social che era molto meno sviluppata per noi quando eravamo chiusi c'era la campagna Italia mi manchi abbiamo riaperto Italia mi piaci ogni volta che potevamo comunicare la possibilità appunto di ritornare nei beni avevamo ovviamente notizia cercavamo di trovare delle pillole di curiosità per tenere vicini e legati i nostri visitatori i nostri iscritti e poi questa situazione di crisi ha dato una forte spinta a tutte quelle serie di attività che stavano bollendo in pentola il ticketing online la possibilità di scaricare podcast di scaricare contenuti multimediali e di abbandonare ovviamente tutto il cartaceo ma anche quando si parla di visite in presenza abbiamo iniziato a dare altre alternative per esempio alla sola visita della villa abbiamo organizzato visite in giardino con il nostro giardiniere abbiamo cercato di dare anche quella è la copertura vetrata che copre adesso il campo da tennis di pensare a delle visite che parlassero un po' del dietro le quinte della sostenibilità degli impianti tutto quello che gira intorno anche alla parte tecnologica di Villanecchi abbiamo cercato una volta anche di fare una visita nella centrale interrata di Villanecchi ma per la sicurezza non siamo riusciti ancora a farla ma non è detto che non ci sarà questi sostegni che abbiamo ricevuto grazie ai quali abbiamo potuto fare tutte queste attività una molto importante ovviamente è stata la doppia erogazione del 5 per 1000 cultura che normalmente viene investita in attività culturali quest'anno invece andrà a coprire anche i restauri e poi i ristori per i mancati incassi dal MIC e dal comune di Milano molte le aziende che ci sostengono in questo nuovo percorso di sostenibilità una su tutte Edison con cui mi incontrerò proprio lunedì a Villanecchi per il revamping dell'impianto di climatizzazione della villa e poi anche le campagne che hanno appunto questo senso sempre di ripartenza le campagne di raccolta fondi quei quadratini che si vi legge poco però raccontano come cerchiamo di applicare anche dei processi sostenibili nei nostri cantieri chiudo con un progetto che è ancora anche questo un work in progress ci siamo chiesti dove raccontare questo posizionamento del FAI questo lavoro che stiamo facendo e l'idea è quella di creare un laboratorio della sostenibilità una stanza dell'ambiente nei principali beni FAI il prototipo sarà a Villanecchi dove si sperimenta molto dove proprio il vecchio garage della casa che adesso non aveva usato come magazzino diventerà una sala immersiva dove poter raccontare appunto e poter condividere con i nostri visitatori l'impegno che ci stiamo l'impegno del FAI in questo in quest'ambito è prevista l'inaugurazione del 2022 quindi chiudo sperando di rivederci nel 2022 proprio a Villanecchi la biblioteca è frequentata è frequentabile contiene due parole sì allora la biblioteca è una biblioteca di diciamo è la biblioteca della famiglia Necchi quindi è una biblioteca di borghesi di inizio secolo che hanno molti testi in francese in italiano testi di viaggio non è una biblioteca diciamo con volumi davvero preziosi e storici abbiamo una Treccani molto bella però ecco questo è stato il massimo però tendenzialmente appunto tra i nostri beni Villanecchi la parte di Braga non è quella rispetto alla biblioteca di Masino per esempio che ha testi fino al 600 è una biblioteca molto standard dell'inizio secolo quindi quella o anche i vestiti che sta anche la nostra conservatrice non hanno dato problemi anche perché Villanecchi appunto è abituata diciamo si è assestata ormai da tempo su questi sui tessuti ci sono dei problemi grossi ogni tanto ogni tanto c'è la seta lì avete tutti i vestiti del giri sì sì quello magari più sulla parte di arazzi che devono allora come è stato detto ovviamente in questo momento di fermo c'è stata anche l'opportunità di fare tante piccole manutenzioni quindi microaspirare i tappeti le parti più proprio perché Villanecchi ha questa attività molto frenetica a volte e noi facciamo fatica come tecnici a star dietro a dire no scusate dovete chiudere oggi perché dobbiamo fare questa manutenzione è un continuo diciamo trovare un equilibrio quindi in questo momento di silenzio per noi per lei soprattutto per i miei colleghi conservatori è stato un idilio poter avere tutte le stanze libere non avere gente in giro e poter ovvio mancavano un po' i fondi quindi anche lì bisogna trovare l'equilibrio giusto grazie e vi invito ad andarla a visitare se non la conoscete specie voi che non siete di Milano magari anche chi sta ascoltando adesso è ampiamente invitato non solo i giorni del FAI ma sempre perché questa villa ha un orario di apertura quotidiano e è particolare perché uno non si immagina nel centro di Milano una situazione del genere poi c'è il giardino che è splendido quando tutta la fioritura appunto grazie infinite e magari anche sostenete il FAI tra virgolette io l'ho fatto invitiamo adesso i colleghi che dovevano collegarsi in particolare erano i colleghi dell'università di Padova c'è il dottor Sebastiano Micoli sei online devo prendere sì grazie allora innanzitutto grazie a te Ornella e grazie ai partecipanti per le relazioni davvero molto molto interessanti che danno sempre la misura di quanto sia confinato il nostro patrimonio culturale e dunque ti puoi autopresentare tu perché io sono in piedi e non c'è bisogno quindi che ti metta a chiacchierare il nome l'avete sentito sono Sebastiano Micoli e sono il direttore del centro di Ateneo per le biblioteche dell'università di Padova la presentazione che vi mostriamo dico vi mostriamo perché la prima parte ve la illustro io e l'altra parte sarà invece curata dalla collega Antonella Miolo che è la direttrice della biblioteca medica Vincenzo Pinali del nostro sistema bibliotecario e mira sostanzialmente a mostrarvi i lavori in corso per la realizzazione di una nuova biblioteca presso la sede dell'orto botanico qui a Padova una nuova biblioteca che accoglierà le raccolte di Medicina della biblioteca antica Pinali di Medicina e recupererà di nuovo le raccolte della biblioteca storica e corrente dell'orto botanico in una sede che è contigua completamente contigua alla anticipo al museo dell'orto botanico all'interno del giardino dell'orto botanico di Padova e conserva anche l'archivio storico dello stesso orto botanico per iniziare vi pongo e vi propongo e direi anche mi pongo alcune questioni alcune domande noi siamo in un ambito MAB ritengo importante che ci si chiarisca bene quale sia concretamente l'aspetiva del MAB per non rischiare che la convergenza paradossalmente siamo proprio in un ambito in cui parliamo di sostenibilità che la convergenza tra le istituzioni di nostre istituzioni musee archivi biblioteche alla fine possa risultare insostenibile siamo tutti d'accordo e tutti quanti sappiamo sentiamo e agiamo come se questa convergenza fosse qualcosa di concreto vitale esistente e tuttavia se ci fermiamo a considerare che cosa accade nelle nostre istituzioni vediamo che è una convergenza continuamente a rischio e questo pone a rischio anche i nostri servizi vediamo le potenzialità agiamo come se fossero reali queste potenzialità e tuttavia però restano e permangono ancora molte differenze differenze che spesso cerchiamo di superare con delle azioni che sono assolutamente non vorrei essere frainteso sono assolutamente necessarie e meritorie che però sanno di una giusta posizione cioè abbiamo dei musei che sono anche delle biblioteche o sono anche delle biblioteche delle biblioteche che sono anche degli archivi ma manca un diciamo così un collante che faccia capire come e perché ci debba essere una biblioteca con un archivio o un museo con una biblioteca cioè quale sia sostanzialmente mancano delle azioni e manca una comprensione di come sia il substrato di questa nostra attività il caso di Padova chiedo di mandare avanti la slide a questo punto se è andata ma vedo che c'è ancora eccola qua benissimo grazie il caso di Padova da questo punto di vista è emblematico ho scritto qui un map che viene da lontano perché curiosamente ed anche in per una particolare coincidenza che tenevo a sottolinearvi e a presentarvi l'istituzione più robusta MAB di Padova è un'istituzione che è nata già nel lontano chiaramente non si chiamava MAB 1880 nella nuova sede del museo civico di Padova di cui vedete nella slide la fotografia della facciata spettata dall'architetto Camillo Boito il fratello di Arrigo Boito più noto letterato è una sede museale in cui la città di Padova intese mantenere e conservare le collezioni museali che si erano venute accumulando in città a partire da quasi un secolo prima nel 1780 da subito si comprese l'utilità che si realizzò effettivamente questa visione culturale si comprese l'utilità di avere a sistema e insieme le raccolte museali con le raccolte bibliotecarie e le raccolte archivistiche fino al punto io ho ripreso qui nella slide una parte del discorso inaugurale del 1880 del sindaco di Padova Antoneo Polomei fino al punto dicevo che si poteva parlare di una circa decina di milioni di documenti che si affollano nel nostro archivio delle 20.000 pergamene che lo impreziosiscono qui non ho riportato tutto ma si parlava a tempo di quasi 120.000 volumi che erano conservati in questa sede diciamo quello di Padova è un Mab un po' antelitteram e si vede rappresentato questo è il motivo per cui vi mostro la slide della facciata ed è tuttora così la fotografia è un po' vecchia ma la facciata dell'ingresso è tuttora così dicevo un Mab che viene rappresentato anche plasticamente proprio nel complesso architettonico dove non so se si vede in alto c'è scritto museo e sulla destra del portale archivio e sull'altra parte biblioteca possiamo andare avanti questa questo Mab antelitteram nel corso dell'ottocento e nel corso del novecento fu costretto ad uno smembramento proprio per le sue dimensioni probabilmente lo spazio ci sarebbe stato ma molto probabilmente proprio per le sue dimensioni e quindi adesso abbiamo un archivio che è passato allo Stato dal millenovecento quarantotto una biblioteca che è stata trasferita in parte ancora da sistemare per alcune parti nella biblioteca civica e il museo che si è trasferito in una nuova sede questo mi spinge a interrogarmi e a cercare di capire quale possa essere al giorno d'oggi una indicazione di sostenibilità diciamo così per le nostre strutture sostenibilità che non riguarda soltanto anche se ovviamente anche gli obiettivi dell'ONU ma sostenibilità diciamo nel senso ampio durabilità proprio di queste istituzioni credo che si possa trovare una un concetto di fondo in tutta questa lunga storia e in tutto quello che noi come istituzioni MAM oggi facciamo in un'azione che è molto semplice e che c'è quella del comunicare noi conserviamo e agiamo nella nostra pratica professionale conserviamo i documenti della capacità umana di comunicare e sostanzialmente trattiamo informazioni vado veloce per non portare via troppo tempo questo fatto ritengo che sia molto significativo proprio in un contesto come quello attuale post pandemico che guarda caso ci ha messo proprio di fronte come istituzioni MAM alla necessità di comunicare informazioni a utenti non più presenti ci ha posto nella condizione e devo dire che le istituzioni MAM italiane hanno più che onorevolmente risposto a questa sollecitazione ci ha posto nella condizione di interrogarci su interoperabilità condivisibilità trasparenza appeal delle informazioni conformità conformità normativa delle informazioni che fornivamo agli utenti conformità etica verificabilità insomma tutta una serie di azioni tutta una serie di necessità operative che di nuovo ci riportano sul terreno della necessità e opportunità di trattare informazioni sul terreno diciamo della sostanzialità di questa come dire di questo punto di vista per le istituzioni MAM e ora ritorno alla collocazione il museo archivio e biblioteca che sarà costituito presso la sede del orto botanico conserverà anzi scusate ospiterà il laboratorio di digitalizzazione dell'università quel laboratorio quell'attività che al momento cura la biblioteca digitale FADRA e cura il sistema di mostre virtuali che viene utilizzato anche dal centro di Ateneo per i musei oltre che da altre istituzioni dell'università di Padova curerà e sta procedendo alla digitalizzazione dell'archivio sostanzialmente quindi vengo un po' alla conclusione di questa breve carrellata metodologica insomma di introduzione a quello che dirà fra poco la collega Antonella Miolo sostanzialmente il terreno di convergenza sostenibile per le istituzioni MAM in quanto istituzioni che conservano documenti della capacità umana di comunicare questo terreno di convergenza è quello digitale dobbiamo cercare e qui a Padova stiamo cercando di lavorare in questo senso di cercare di creare degli ecosistemi digitali che ci consentano senza rifiuti specialmente senza rifiuti di tipo tecnologico di traghettare tramandare il patrimonio informativo delle nostre istituzioni in maniera sostenibile e non più a rischio di smembramento in maniera che rappresenti la caratteristica olistica mi piace molto che sia stata utilizzata questa parola in due degli interventi precedenti che è un treno digitale appunto che sia di convergenza e di sostenibilità per il futuro non è semplice bisogna interrogarsi su tutta quella dimensione delle informazioni di cui vi ho dato un po' un accenno ma che di fronte alla quale la pandemia ci ha già posto a confronto insomma e su questo terreno io credo che si possa appunto procedere molto utilmente per la nostra comunità in avanti questo per quanto riguarda diciamo una visione di contesto ovviamente tutti noi sappiamo che su quanto siano importanti queste convinzioni di contesto passo la parola adesso alla collega Antonella Miolo che invece ci mostrerà più nel dettaglio e più precisamente che cosa si sta facendo in questa progettualità dell'Ateneo di Padova grazie buongiorno a tutti grazie per questa opportunità sono la direttrice della biblioteca medica centrale Vincenzo Finali dell'Università di Padova e mi occupo di questo progetto di trasferimento della sezione antica della biblioteca perché la biblioteca è divisa adesso in due parti moderna che è una palazzina di tre piani all'interno dell'area ospedaliera e l'antica che è rimasta in una sede costruita nel 1922-30 io prendo ho iniziato il mio intervento pensando anche al fatto che noi l'anno prossimo festeggeremo 800 anni della nostra storia e se l'intervento precedente della dottoressa Turati ha parlato di natura e storia che mi sembra molto appropriato anche per l'attività meritoria del FAI io aggiungo anche cultura e le abbiamo tre in questo progetto di trasferimento all'interno dell'orto botanico di una biblioteca di medicina è un concetto di sostenibilità anche questo credetemi l'idea di portare una collezione che è sempre stata dentro all'area alle mura di medicina portarla in un altro posto è in ogni caso un momento questo per noi a Padova di grandi tenti di grandi progetti e anche di una riflessione che abbiamo fatto soprattutto nell'area delle biblioteche dei musei e degli archivi sul significato di heritage e di eredità culturale perché guardando al patrimonio dell'università di Padova nel suo insieme risulta molto evidente che l'edità culturale si manifesta nel concreto nelle testimonianze fisiche tangibili nelle opere nei monumenti ma si manifesta altrettanto in quella sfera immateriale che è la trasmissione delle idee della cultura e ci segna in maniera indelebile ci infonde anche un grande senso di appartenenza devo dire ci fa sentire come università e come universitari una comunità che cammina che va avanti che guarda al futuro e posso dire che il nostro motto ha fatto sì che la Patavina Libertas avesse fatto crescere abbia fatto crescere continui in un ambiente di grande libertà intellettuale grandi uomini grandi scienziati che hanno contribuito in maniera determinante alla scienza nuova e al metodo scientifico in questo modo questa comunità di persone questa comunità di idee di luoghi fisici diventano il bagaglio che testimonia la nostra storia e ci sostiene anche per il futuro ovviamente in questo contesto se vogliamo passare alla prossima slide trasferire sì qui avevo rappresentato appunto che cosa poteva essere un'eredità culturale per una università così dita di storia non è difficile trovare i segni qui c'è il frontespizio di un piccolo libricino che però è stato scritto da Galilei sul pseudonimo e quasi in Veneto c'è la nostra una del nostro sale del palazzo del Bo e c'è l'iconografia dell'orto botanico cioè sono tre elementi che testimoniano un contesto culturale di un certo tipo possiamo passare alla prossima perché dicevo in questo contesto trasferire la biblioteca antica e anche alla prossima ancora queste sono tutte immagini diciamo che danno l'idea delle cose che ho detto della riflessione sulla nostra storia quindi in questo contesto trasferire la biblioteca antica la scuola vicina assume un'importanza che va oltre gli aspetti puramente tecnici e logistici diventa una sfida anche volta a valorizzare i contenuti i luoghi e a consolidare proprio un principio di condivisione del patrimonio perché il progetto deve superare i fini fisici di un palazzo e la collezione libraria e il sapere che trasmette devono non apparterranno più solo alla scuola medica o all'università diventeranno un patrimonio culturale per gli studiosi per i cittadini fruibile e valorizzato qui ci sono immagini la nostra se torna un attimo indietro scusi indietro si vede il nostro palazzo della ragione di Padova e il cortile antico dell'università due emblemi della vita cittadina quindi in quella ancora prima se non le dispiace mi sfuggi ma c'è un'immagine che volevo mostrarvi questo è il cartello di cantiere che sta davanti alla ristrutturazione della nuova biblioteca l'ho trovato molto bello è stato fatto dalla comunicazione del nostro ateneo e mette insieme questi mondi l'ortobotanico i musei e la biblioteca quindi adesso possiamo andare avanti mi scusi anche di ecco fino anche a quello se vuole volevo parlare dei luoghi perché a Padova l'istituzione universitaria è un'istituzione che pervade la città pervade culturalmente ma anche dal punto di vista urbanistico gli edifici dell'università sono cresciuti insieme con antieri quartieri talvolta quindi dov'è la biblioteca Pinali antica in questo momento la biblioteca Pinali antica è nata dalla volontà testamentaria del professor Vincenzo Pinali un clinico padovano che nel 1875 muore per sua volontà la sua biblioteca viene destinata alla scuola medica e lui chiede che sia messa all'interno della scuola medica che si trovava in un'area molto contigua anche a quella che adesso è l'area di Lucina in questo luogo furono conservati la sua collezione e fu aumentata nel corso dell'800 e del 900 da altre donazioni qui si vedono alcune immagini delle due sale principali e successivamente nel 30 fu costruito al posto di questo ex convento che ospitava la scuola medica dalla fine del 500 un palano monumentale che si chiama complessi anatomici che doveva proprio ospitare la biblioteca e gli istituti anatomici successivamente la sezione fu fatta costituita una sezione moderna all'interno del nuovo policlinico per rispondere al mandato speciale originario di supportare la ricerca e la didattica nell'incessante progresso della scienza medica quindi rimase la parte etica nel complesso degli anatomici e si configurò sin da allora come la biblioteca di conservazione dell'area medica all'interno di questo grande complesso che però nel tempo negli anni successivi ha modificato le sue destinazioni di uso e i decisori dell'ateneo hanno ben pensato di trovare un luogo più consono a una biblioteca di conservazione e lo hanno trovato all'interno del prestigioso orto botanico per noi appunto un luogo mitico è nella lista dei siti patrimonio dell'umanità unesco nell'orto botanico è la palazzina del prefetto che è stata dedicata in parte alla nuova biblioteca finale alla nuova sede e è importante dire che all'interno della palazzina sono in restauro anche qui vedete dei corridoi ma sono in restauro anche altri servizi altri luoghi dell'orto botanico come l'erario e il museo il trasferimento della biblioteca finale all'interno della palazzina non è un mero trasloco dovrebbe e sarà una rivisitazione della nostra collezione sarà una modalità anche di rivedere alcune l'organizzazione del patrimonio perché in questo momento è importante il collegamento con l'orto botanico con il museo dell'orto botanico l'archivio e soprattutto con la biblioteca dell'orto botanico che conserva importanti testi di botanica un archivio una iconoteca importante quindi diciamo che quella che era l'unità di pensiero e di studio avvenuta nel cinquecento tra la natura lo studio naturalistico e la medicina e c'era perché i primi lettori dei semplici e quindi delle piante medicali erano medici e furono i medici in particolare a supportare la fondazione dell'orto medicale perché avevano bisogno di studiare le piante proprio dal vivo e quindi l'orto fu fondato grazie proprio anche alla scuola di medicina vedo questo trasferimento come una unità ritrovata all'insegna della valorizzazione di questa storia del nostro patrimonio ma soprattutto nella possibilità di integrarci ed è già stato fatto perché la biblioteca dell'orto botanico collabora regolarmente con il museo e proprio nell'ottica di mettere a disposizione questo patrimonio a disposizione degli studiosi e dei cittadini in una unità ritrovata e anche in una possibile io credo sostenibile valorizzazione congiunta del nostro patrimonio io vi ringrazio mi scuso se sono andata oltre ma grazie grazie per la presentazione molto ricca guarderemo con attenzione anche queste immagini che ci rimangono ringrazio entrambi sia Sebastiano sia lei di questo vostro intervento e adesso nel salutarvi chiamiamo in causa l'altro collegamento che dovrebbe essere già attivo con la reggia di Caserta è tutto un altro mondo ma appunto un esempio di grande Mab Genaro sei online? Genaro online si io mi sei ci sei ci sei pronto Gennaro ci sei? sei collegato? non lo so noi abbiamo le slide però ora vi sento ci senti? dobbiamo farti vedere però si ora si se mandate se mandate le slide riesco anche a condividiamo noi le slide quindi non so se voi mi sentite se mi date un cibo si senti io ti senti ci sentiamo dai condividiamo le slide che abbiamo qui le mandate grazie quella precedente tu dimmi quando devo cambiare è una prima comunque si va bene allora innanzitutto buongiorno a tutti io sono Gennaro Tino vi parlo sono referente per la biblioteca d'archivio storico della legge di Caserta porto i saluti del nostro direttore la dottoressa Tiziana Maffei che non è potuta essere presente per altri impegni istituzionali e vi parlerò in breve di come abbiamo affrontato l'epidemia pandemica l'emergenza pandemica e di alcune delle iniziative legate allo sviluppo sostenibile intraprese dalla reggia se possiamo andare avanti allora due parole sulla reggia di Caserta noi amiamo intenderla come un ecosistema di beni la reggia è un complesso di beni molto articolato che oltre all'invaso vanviteliano al palazzo vanviteliano che comprende al suo interno tutta una serie di cose tra cui cappella palatina teatro di corte collezione terremotus archivio storico biblioteca palatina è collegata anche a quello che è il parco i giardini storici della reggia e al giardino in inglese dunque è un ecosistema che si muove intorno a noi ed è composto da tutta una serie di beni molto differenti tra di loro e che appartengono per definizione a categorie complesse e differenti se possiamo andare avanti con la slide la gestione di questo dimenticavo anche ecco dimenticavo anche l'acquedotto carolino che è un acquedotto creato proprio da Luigi Vanvitelli che collegava le acque delle sorgenti del taburno fino al parco della reggia e che avrebbe poi portato all'acqua addirittura fino a Napoli due parole su Luigi Vanvitelli un genio la cui importanza e rilevanza storico e artistica a nostro avviso ritengo che anche il nostro direttore Maffei sia sicuramente d'accordo non è stata ancora diciamo riconosciuta pieno e noi stiamo cercando attraverso anche tutte le nostre attività di dare il giusto merito a quella all'opera di Luigi Vanvitelli qui a Caserta possiamo andare avanti con la slide alcune delle attività che abbiamo intrapreso legate proprio agli obiettivi individuati dall'agenda 2030 e da quelle che sono state le attività intraprese negli ultimi due anni dal nostro museo in relazione a quella che è stata poi anche l'emergenza pandemica che ci è capitata innanzitutto ci siamo concentrati e le abbiamo diciamo concentrati in questo in breve intervento in quattro categorie tematiche una legata alle tecniche e ai materiali impiegati per le attività di manutenzione pure il restauro del patrimonio ad impatto zero sull'ambiente un'altra il recupero delle preesistenze storicizzate che sono tantissime nella regia di Caserta sono veramente tante su tutta la correzione terremotus che non faceva parte della collezione originale della regia ma che è stata inserita poi dopo successivamente negli anni 80 del novecento e di cui parleremo dopo e alcune attività di valorizzazione con un approccio green e ecosostenibile e poi un impegno in alcune delle politiche sociali possiamo andare avanti qui vi mostro tre importanti tre tra alcuni dei progetti legati alla manutenzione e cura del nostro patrimonio uno recente è legato all'acquisto di una camera nostica legata al trattamento di disinfezione dei beni con supporto organico è una camera di impatto zero produce autonomamente azoto ed è ecosostenibile in più non ha impatto non causa degradi sugli stessi beni un altro è un tagliaerbe alcuni tagliaerbe non solo uno sono tanti acquistati dalla reggia per le attività di manutenzione parco all'interno del parco sono dei tagliaerbe dotati di varie che possono praticamente all'ultima generazione dotati praticamente di cesoie multiple che permettono all'utilizzo di un unico motore di tagliare una superficie molto più grande di prato e anche su declivi più diciamo più sconnessi e infine poi l'utilizzo di auto elettriche per la manutenzione e la raccolta differenziata nel parco e nel complesso bambitelliano per quanto riguarda invece il recupero delle preesistenze storicizzate vi parlo dell'intervento di restauro svolto alla Pischiera Grande che ha visto anche il coinvolgimento del nucleo dei carabinieri del nucleo subacqueo dei carabinieri di Napoli che hanno indagato sui livelli di ossigenazione delle acque e ci hanno permesso poi di effettuare ulteriori studi sui collegamenti tra i canali presenti all'interno della Pischiera Grande di come questi fossero collegati con quelli delle fontane della lunga via dell'acqua è un restauro che ci ha permesso di approfondire poi studi eventuali per altri interventi futuri sulla via dell'acqua qui invece in alcune attività di valorizzazione con un approccio green in primis un bando pensato per i giardini inglesi che prevedesse il recupero di alberature cadute che vengono riconvertite in opere di arte contemporanea ci sono stati effettuati è stato effettuato un bando e hanno vinto tre importanti artisti poi il recupero di una delle vigne storiche presente all'interno del Bosco di San Silvestro che è adiacente al Parco della Reggia e fa parte del Parco della Reggia la vigna è stata riconvertita affidata ad una tenuta ad un'azienda agricola la Tenuta Fontana e produrrà pallagrello dopo sia russo che bianco e poi le marmellate delle regine il recupero delle arance all'interno del nostro agrumeto che vengono affidate alla cooperativa Eva che è una cooperativa che si impegna anche nell'aiuto di donne vittime di violenza e che produrranno poi questa marmellata inserendo all'interno di un sistema ad economia circolare se possiamo andare avanti questi sono alcuni esempi di quelle che sono alcune delle attività di valorizzazione intraprese durante il covid qui una mostra avvenuta di recente a luglio con la collaborazione con l'Accademia di Belle Arte di Napoli e il consorzio San Leucio Texail con la produzione di abiti da donna in tessuti di San Leucio e sempre collegata praticamente ai temi legati alla violenza sulle donne un'altra importante diciamo attività è quella che vede la collaborazione della Regia di Caserta ed altri istituti culturali del MIC tra cui anche Pompei e altri con l'associazione Campania Terra Felix e la realizzazione di orti didattici per bambini lo scopo è il sostegno alla lotta contro la povertà educativa che affligge alcune categorie sociali e soprattutto i bambini se possiamo andare avanti e qui poi alcune il recupero della collezione terremotus come vi dicevo noi dobbiamo affrontare anche gli importanti problemi legati a quella che è la sedimentazione storicizzata delle nostre collezioni la correzione terremotus è una di queste è arrivata negli anni 80 negli anni 90 alla Regia di Caserta ed è una collezione collegata al terremoto dell'Irpinia in Campania avvenuto nel 1980 il gallerista napoletano Lucio Amelio convocò alcuni dei più importanti artisti internazionali di arte contemporanea che si muovevano all'interno della sua galleria e gli propose di realizzare tutta una serie di opere intorno al tema del terremoto che sono poi diciamo state donate alla Regia di Caserta e nel dicembre del 2020 alcune di queste opere sono state poi dopo allestite all'interno dello spazio percorribile del museo in un dialogo contrapposto con la collezione storica e quella di arte contemporanea andiamo pure avanti poi come si pone la Regia all'interno di un'ottica Mab allora la Regia è sicuramente un invaso molto importante che ha al suo interno una collezione storicizzata di cui fanno parte sia la biblioteca Palatina che fa parte delle collezioni patrimonializzate del nostro museo che gli archivi sia quello storico che quello che quello corrente che a sua volta si sta anche lui storicizzando come ci stiamo approcciando nell'ottica nell'ottica Mab innanzitutto stiamo cercando di sviluppare nuovi bandi attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie che permettono attraverso la creazione di banche dati online la digitalizzazione e lo sviluppo di realtà aumentata di mettere in connessione beni di per sé apparenti a tipologie diverse ma che sono collegati dallo stesso tema in questo caso il nostro il nostro museo la biblioteca Palatina è una biblioteca che è collocata lungo il percorso museale del nostro museo e fa parte delle nostre collezioni è visitabile lungo il percorso di visita non è aperta al pubblico in senso canonico in quanto noi non siamo una biblioteca ma siamo un museo le collezioni della biblioteca sono accessibili solo su pernotazione e previa una richiesta che prevede la valutazione non soltanto della ricerca che si intende fare ma anche del curriculum questo perché diciamo a tutela del pregio dei beni che vi sono conservati è una biblioteca che è nata nella seconda metà del settecento per volontà di Ferdinando IV di Carolina Rasburgo e che conserva collezioni legate al collezionismo librario illuminista e poi successivamente ottocentesco ed è una biblioteca il cui nucleo principale è pensato per l'educazione dei principi borbonici poi futuri futuri regnanti alla biblioteca palatina si collega poi l'archivio storico possiamo andare avanti con la slide che è invece una collezione divisa praticamente in due parti gli archivi storici della reggia che accorpano tutte le carte sedimentate all'interno del museo è un po' anche il discorso che facevano che ho sentito prima con il museo di Lecco il nostro museo ha accorpato e raccolto tutta una serie di documenti storici afferenti non soltanto alla legge ma anche ai territori limitrofi e che sono strettamente collegati con la nostra casa del nostro museo a questo archivio storico è collegato quello che è il nostro archivio amministrativo corrente di cui una parte quella cartacea si è storicizzata gli archivi per noi sono fondamentali perché ci permettono di indagare su quella che è non soltanto la storia del nostro patrimonio ma di conoscerlo meglio durante le attività di valorizzazione e tutela soprattutto quelle che riguardano i restauri e gli interventi che vengono effettuati sul patrimonio ed è per questo che stiamo spendendo moltissimi bandi per la digitalizzazione delle carte d'archivio ma soprattutto per la costituzione di banche date digitali che ci permettono di aprire queste collezioni al pubblico e di avere poi accessi condivisi alcuni dei bandi legati proprio al digitale a cui abbiamo partecipato sono praticamente quello del Motu Cloud che è un bando in collaborazione con la regione Campania qui hanno partecipato tutti i più grandi attrattori culturali della regione tra cui anche la regia di Caserta che ha visto la digitalizzazione di alcuni dei suoi beni che poi sono confluiti e confluiranno all'interno di questo cloud culturale della regione un altro bando è invece il Reggio Indigitale che è un bando che oltre ad implementare il nostro sito internet e la nostra rete wifi interna ha come obiettivo la realizzazione di un Welcome Digital Center cioè un centro digitale che permetta di sfruttare la realtà aumentata per la conoscenza delle nostre collezioni ai visitatori durante il percorso di visita a questi banni stiamo lavorando anche ad altri banni legati ai centri di documentazione su Bambitelli legati a gestionali per la gestione degli archivi e degli inventari soprattutto della Reggia altri banni importanti sono quelli legati a Reggia in arte e design che prevede il recupero dell'ex convento dei passionisti anch'esso collocato all'interno del parco storico della Reggia il convento è stato dismesso dai padri passionisti e si vuole riqualificarlo e utilizzarlo per farlo diventare un vero e proprio hub culturale in cui ingegneri architetti storici storici dell'arte possano praticamente riunirsi e creare praticamente un polo strategico per lo studio e la cultura un altro bando importante è legato invece alla creazione di un impianto di videosorveglianza attraverso l'utilizzo poi di quella che è l'installazione della fibra ottica un impianto che permetta di poter gestire la sorveglianza del sito parco e palazzo in totale sicurezza e soprattutto sfruttando sistemi automatizzati legati alle nuove tecnologie il covid ci ha diciamo un po' fermati ci ha bloccato un po' quello che avevano alcune progettualità previste nell'anno 2020 ma ci ha dato poi un'altra grande possibilità quella di poter praticamente approfondire alcuni aspetti e lavori che sarebbero stati molto più complessi da mettere in atto a museo aperto diciamo che negli ultimi tempi siamo subito ripartiti abbiamo siamo partiti con alcune attività in streaming tra cui alcuni concerti qui vi portiamo il concerto tenuto dal maestro Muti e dall'orchestra giovanile Luigi Cherubini al teatro di Corte della Reggia e ovviamente ad agosto abbiamo già avuto degli importanti riscontri in termini numerici abbiamo avuto circa 80.000 visitatori e il numero è destinato a crescere circa 300.000 in tutto l'ambito estivo dal mese di giugno ad oggi e dunque la riapertura dei siti museali ci ha riscontrato comunque un discreto successo certo ritornare ai numeri precedenti la pandemia ci vorrà un po' di tempo ora ci sarà un breve video in cui magari dimostriamo un po' di quella che è il nostro parco e la Reggia e come vi dicevo il Covid è stato un momento di riflessione importante abbiamo potuto indagare e soffermarci su quelli che sono gli aspetti moltissimi aspetti del museo innanzitutto gli inventari e recuperare una ricerca sugli inventari e cercare di capire quella che è la nostra collezione storicizzata non vedo più niente adesso sì e soprattutto mettere in campo nuove progettualità legate al museo i restauri soprattutto quelli legati all'interno al palazzo e al parco abbiamo intrapreso durante la pandemia tutta la riqualificazione legata ai depositi e il museo chiuso ci ha permesso di poter lavorare diciamo con maggiore agilità e non dovendo comunque nasconderci fra virgolette visto la presenza dei visitatori con il museo chiuso abbiamo potuto lavorare diciamo con maggiore tranquillità e tutte queste attività intraprese durante la pandemia hanno poi avuto seguito successivamente e verranno ampliate poi negli anni negli anni a venire dunque è un lavoro molto complesso il sito è enorme sono circa 200 detali di parco e 47 mila metri quadri dell'invaso architettonico dunque gestirlo poi con i numeri di personale che vanno via via riducendoci un'altra cosa importante legata agli archivi abbiamo diciamo informatizzato gli archivi correnti attraverso la piattaforma di protocollo informatico del ministero giada dunque non produciamo più atti amministrativi in forma cartacea ma li produciamo direttamente in forma digitale li conserviamo in forma digitale e proprio su questo aspetto stiamo cercando di implementare di dotare il museo di altri strumenti che ci permettano di poter essere al passo con i tempi esportare le nuove tecnologie e rendere poi la gestione di tutto il nostro complesso sostenibile e in linea con l'ambiente con la salvaguardia dell'ambiente ti ringrazio è concluso il tuo intervento credo sei ancora online ti volevo ringraziare e ringraziare anche l'architetto Maffer che è il direttore della Regia di lavoro non avete fatto tanto e vi aspetta ancora tanto lavoro comunque complimenti mi sembra era solo una parte di quello che non potevo condensare tutto grandiosa realizzazione era difficilissimo speriamo una volta di poter venire a fare una bella gita di bibliotecaria a visitare la biblioteca assolutamente assolutamente grazie gennaro sarebbe bello ma piacerebbe anche a noi visitare molti dei luoghi che abbiamo visto eh sì infatti complimenti anche agli altri colleghi grazie e adesso qui stacchiamo il collegamento e chiudiamo il nostro convegno dicendo che poi tutto lo streaming sarà comunque visibile nei tempi successivi al convegno e quindi potrà godere di nuovo della possibilità di entrare nel merito del patrimonio che si è solo intuito che esiste è chiaro che questo seminario aveva soltanto lo scopo di far vedere qualche caso particolare sarebbe stato meglio poter parlare più con maggior tempo e tanti esempi però questo è il lavoro prossimo che ci aspetta direi grazie a tutti grazie allo staff di Argento Vivo sì allora da casa chi segue in diretta streaming quindi Edo Bricchetti chiede il museo la biblioteca l'archivio per definizione aspettano accolgono secondo voi quali potrebbero essere delle azioni che al contrario escano nel territorio e coinvolgano la comunità presentando il patrimonio museale librario e archivistico se qualcuno di coloro che sono presenti in sala vuole dare una risposta le ecco vuoi provare a rispondere vieni qui al microfono o prendi o prendi quello potreste la biblioteca se si mi sembra che conosco bene Edo Bricchetti perché è stato uno dei pionieri dell'archeologia industriale lombarda e lo saluto se mi ascolta ma mi sembra che un po' i nostri interventi l'abbiano detto da soli cioè intanto devo dire una cosa mi fa molto piacere vedere come tutti i professionisti che operano nei beni culturali che hanno parlato prima di fatto anche da questa particolare nostra condizione di aver sempre bisogno di unire teorie prassi ricerca didattica comunicazione di fatto vengono vengono poi dei risultati anche di conoscenza delle riflessioni più profonde cioè l'intervento della collega della direttrice della biblioteca universitaria di Padova secondo me ha colto in modo molto profondo tutto quello che è la correlazione che esiste da sempre in Italia da quando sono nati i musei forse perché in ritardo rispetto alla Francia e ad altri paesi in una visione almeno che era proprio di tutti i musei civici del nord Italia che nascono tutti anche in un certo modo ma che era poi prima addirittura dell'università storica come Padova in cui la didattica la conservazione del bene culturale erano tutte intersecate e quindi la funzione di ricerca di didattica di divulgazione e quindi la necessità di conservare un patrimonio e la dimensione storica della conoscenza comunque che univa tutte queste tipologie anche di materiali rendeva necessario un dialogo tra di loro e una conservazione correlata e quindi fin dall'inizio il caso per esempio del museo archivio biblioteca di Padova molto interessante però mi sembra assai simile appunto al di là dell'entità del valore peculiare a quello che sono state le vicende di moltissimi istituti soprattutto musei civici del nord in cui fin dall'inizio si diceva deve avere una biblioteca per fare la ricerca la didattica deve avere una biblioteca specializzata un archivio i musei devono essere comunque musei scientifici io devo dire che ho passato i primi vent'anni del mio lavoro quando ero ancora giovane a sentire convegni in cui alcuni professori universitari in genere architetti o storici dell'arte ci si impiegavano cos'era un museo e ci raccontavano sempre degli esempi di museo che non hanno niente a che fare con la storia e la tradizione dei musei italiani cioè il museo come galleria d'arte quindi confondevano un tipo particolare di museo cioè la raccolta d'arte in genere dovuta dalle sedi delle capitali degli antichi stati preunitari con il museo che invece in tutto il resto soprattutto la Metteleuropa nasce prima come museo scientifico archeologico naturalistico eccetera eccetera e poi come anche galleria d'arte eventualmente e quindi diciamo questa vicenda dà il senso di come poi tutti questi elementi si intersichino anche poi con i beni culturali sparsi nel territorio perché credo che il senso della domanda di Bricchetti proprio perché attento all'archeologia industriale cioè un patrimonio diffuso sia questo cioè poi al fine il museo l'archivio e la biblioteca sono il collettore di tutto ciò che si muove all'interno di un territorio o di una città per quello che riguarda il patrimonio culturale diffuso direi che abbiamo risposto a Bricchetti in qualche modo ciao Edo e comunque c'è tutta la questione della definizione del museo oggi che cos'è cosa non è si sta discutendo a livello internazionale lo sappiamo in ogni caso quello che è stato detto adesso appunto è vero dobbiamo chiudere scusa unisco solo un'ultima cosa mi sembra che intanto voglio ringraziarti anch'io per tutto quello che hai fatto perché il messaggio culturalmente forte che viene da questo incontro e che davvero anche le associazioni nostre professionali come gli enti diciamo non ha forse più tanto senso che continuino a marciare parallele divise separate in casa perché di fatto proprio credo che Mab sia il giusto luogo da sviluppare virtuale concreto per fare in modo che poi ci si parli e si lavori in maniera più coordinata e più armonica e con maggior forza anche direi contrattuale perché a parte alcuni casi come dire come la nostra collega del FAI che forse vive in un'isola dorata a questo punto di vista ma il caso per esempio di una situazione complessa come quella di Caserta ci induce a pensare che veramente o ci muoviamo tutti insieme per avere anche le dotazioni normative strumentali e finanziarie per valorizzare il patrimonio straordinario che il nostro paese ha allora di nuovo grazie a tutti sono costretta a chiudere volevo chiedere se qualcuno voleva ancora dire qualcosa ma credo che non abbiamo tempo grazie a Argento Vivo allo staff della segreteria delle stelline e ai nostri tecnici qui dietro bravissimi che ci hanno sostenuto e aiutato a fare questo collegamento e tutto l'insieme tecnologico ai colleghi presenti in sala che sappiamo che purtroppo non sono molti ma speriamo che tanti possano anche rivedere lo streaming perché i temi sono interessanti e soprattutto io colgo l'invito per dire a chi c'è e raccoglie questo pensiero stimolo di andare avanti su questo tema in ambito MAB quindi le tre associazioni che fanno parte del MAB IB ANAI e ICOM ma non solo perché il MAB è un'idea lo dico io in termini internazionali viene chiamato ALM rovescio o BAM quello che volete ci sono tanti MAB in giro appunto cerchiamo di fare una cosa dove si possa integrare questo insieme di MAB o comunque trovare le occasioni per parlare insieme tra professionisti di contesti culturali diversi che comprendono sempre più l'ambiente il paesaggio e quindi le questioni che toccano poi anche la fisicità del cambiamento del clima delle energie che si riducono e quant'altro io ringrazio davvero tutti dell'attenzione e posso dire e ritenermi soddisfatta di quello che abbiamo fatto in un momento così difficile ancora per tutti e che non sappiamo bene quando potrà essere completamente chiuso dal punto di vista delle limitazioni però abbiamo lo stesso tante opportunità proprio attraverso le tecnologie grazie a tutti e buon pomeriggio per chi resta e grazie a coloro che ci hanno seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti